Eccoci qua ragazzi, tenetevi pronti perché sarà una puntata fuori di testa, quello che vi faremo vedere oggi penso che non lo riuscirete mai e poi mai a rivedere in vita mostra in qualche collezione. Siamo alla seconda puntata della seconda stagione del Mercoledì Magico di cui devo ringraziarvi che mi avete dato la possibilità di continuare col vostro supporto e oggi l'argomento è particolare, le oddities, almeno l'argomento di partenza. Poi ci lasceremo abbandonare alla magnificenza della collezione di Andrea e vi faremo vedere delle cose incredibili, ci faremo anche raccontare un po' della storia che c'è dietro certe carte che sono dei capolavori. Quindi detto questo, cosa sono le oddities? Le oddities si intende una tipologia di, diciamo, materiale che hanno di base qualcosa di strano, qualcosa che non era previsto che fosse così. Ma nonostante questo escono sul mercato e qualche fortunato le intercetta, magari in una bustina, magari su uno scaffale, magari da un amico che l'ha trovato in una bustina o cose del genere. Troviamo diverse tipologie di oddities che possono essere delle misprint, possono essere delle miscut, possono essere magari un inchiostro particolarmente uscito strano, una doppia stampa, una stampa doppia del retro della carta, dei difetti di chiusura dei pacchetti, che si chiamano crimped. Escono fuori delle meraviglie, delle meraviglie inaspettate e uniche. E per questo vanno ad assumere un'importanza collezionistica molto particolare. Diciamo che non è un collezionismo da tutti e per tutti. Se Magic, e ora parliamo nello specifico di Magic, è composto in buona parte dal gioco e in parte dal collezionismo, le oddities si rifanno su quella parte esclusiva di collezionismo. Cioè, quelli che comprano delle carte, magari delle misprint, delle miscut, molto spesso non lo fanno perché poi le vanno a giocare nei loro mazzi. Lo fanno per pure e mero piacere di avere dei pezzi unici. Come al solito nei miei intenti di questo format c'è quello di raccontarvi una storia. E la storia oggi è quella di Andrea. Andrea è un ormai amico da anni, ci siamo conosciuti anni fa, ed è, come vi ho già detto e come da titolo, uno dei più grandi collezionisti d'Italia. Potrei azzaddarmi anche un po' più su, ma vogliamo rimanere umili. Voglio che ci racconti anche come è nata questa passione, quando è nata, qual è lo stimolo nella ricerca, come si trovano. Insomma, ci faremo raccontare un bel po' di cose, un bel po' di curiosità. E poi ci mostrerà un tot di roba che io sono rimasto con la bava alla bocca, mentre mi stava facendo vedere cosa aveva portato. Quindi vi prego di dare il buonvenuto al buon Andre, detto Palmetta. Eccolo qua. Ciao, Mase. Ciao, ragazzi. Grazie dell'invito. No, grazie a te di essere venuto addirittura da Milano, direttamente dopo il lavoro. Bello fresco. Bello fresco, immagino. Tra l'altro, ragazzi, vi do un po' di ADV. Andre ha una pizzeria incredibile a Milano, che si chiama Pizza Club No Limits. Pizza No Limits, ma c'ha quanti gusti? Quasi 200. Quasi 200 e più gusti di pizza. Più quelli dolci, tra salati e dolci, sì. Andate perché è un'esperienza unica anche quella. Vi aspetto. Vi aspetta contento. Apriamo la prima pagina dell'album. Vai. Vabbè, la prima pagina è un po' da spiegare perché non sono vere e proprie carte, ma sono state fatte da un mio amico, un admin di un gruppo americano, Jason, che praticamente ha fatto la sua serie di tutti i vari personaggi dell'ambiente Missprint. Ci sono carte crimpate, a posto, ovviamente. Poi Missprint, che è il mago che realizza tutte queste Missprint. Qui si chiama una roba da insider del mondo. Sì, 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 ha fatto un pacchetto. Poi la cosa figa è che Magic è una passione che unisce. Sì, sì, sì. Sia su Facebook che poi, vabbè, agli eventi è bello incontrarsi di persona, conoscersi e scambiare le carte. Infatti queste qua me le date durante un nostro scambio, un nostro incontro. Le ho messe in prima pagina perché... È, diciamo, il primo capitolo e l'introduzione rappresenta quello che verrà dopo. Sì, sì, sì. Fichissima sta roba. Quindi praticamente ogni carta rappresenta o un personaggio o un qualcosa che riguarda il mondo delle Oddities. Esatto, esatto. Allora, vedete, ci sono una quantità di tipologie di carte veramente immense. Cioè, non è che esistono solo carte nuove, solo carte vecchie, solo robe strane. C'è veramente di tutto. Ora non stiamo a spiegarvi carta per carta perché diventa una follia. Cioè, sette album, dodici valice. Però ecco, in questa roba che va sicuro che magari vi può sembrare normale a volte, ma normale non è, c'è qualcosa per esempio qui che è particolare, ma molto particolare? Nell'album non c'è un vero e proprio ordine. Ok. Le ho messe dentro così in ordine un po' casuale. Per esempio, queste qua sono degli inserti di una rivista. Praticamente sono delle veri e propri pezzi di pagina. Ok. Delle riviste in quest due list, fondamentalmente. Tu praticamente puoi ritagliarle. Sono a formato carta e le metti nel raccoglitore. Alcune sono varianti di creature già esistenti, come Serrangel, Shiva and Dragon. Altre invece sono di film, come It, P.N.E.D. Ma anche creature, per esempio, questo è il Beholder, no? Una creatura del D&D. Esatto. Dungeon and Dragon. Quindi questa rivista, diciamo, da nerd. Sì, esatto. Americana, sempre. Faceva questi inserti. Anni 90. Anni 90. Minchia, che figata. Io alcune le ho ritagliate per metterle nel raccoglitore, altre invece... Ah, queste le addirittura proprio ritagliate te. Alcune sì, altre invece... Le ho prese già così. Di altre invece ho la rivista ancora. Ah, ancora completa. Sì, sì, sì. Ecco, ma te quando hai iniziato a Magic? Poi arriviamo alla parte di... Questa la devo raccontare perché è stata la mia bugia più grande. Praticamente ho detto a mia mamma, mamma, prendo un mazzo e qualche bustina per giocare in spiaggia con gli amici. Ok. E basta, mi fermo lì perché già con Pokémon mi era sfuggita... Un po' di mano. Invece con Magic ho detto, no, no, Magic, visto che i miei amici in spiaggia giocano, prendo un mazzo e qualche bustina per giocare con loro. E da lì mi è sfuggito un po' tutto di mano. Ho iniziato con Mirrodin, quindi cos'è? 2000... 2003. Sì, 3-4 per meno. Primo mazzo, quinta alba, solarizzazione, che ho ancora a casa, custodisco gelosamente. Assolutamente, sì. E poi è arrivato un po'... Tutta l'azmagna. Tutto questo, sì. Però ecco, tu non sei mai stato molto sul lato del gioco? No. Fin da subito ti sei spostato sul collezionismo o hai avuto un periodo transitorio? Allora, più che altro non ho mai giocato per questioni di tempo. Ok. Tra l'università, il lavoro e tutto, non sono mai riuscito appunto con la pizzeria... Che vi voglio far notare una cosa. Lui sembra un dodicenne. Quanti anni hai? È 34. È più vecchio di me. Cazzo dici? Eh sì, Rice. Ti ricordi qual è stato il primo input al lato collezionistico? Allora, a me le firme, gli autografi mi hanno sempre affascinato. Infatti, anche un'altra cosa che voglio raccontare. Quando sono andato a Disneyland da sei anni, c'era un libricino per avere... Per farsi fare gli autografi delle mascotte. Oh, ne ho saltato uno, li tampinavo tutti per avere l'autografo e la foto. E quindi è una cosa che ho avuto da sempre, da quando ero piccolo. Di qualcuno, a occhio. Eh, Dani. Eh sì, siete la stessa identità, malattia, va accolto. E quindi un po' la passione per l'arte, perché quella a me è sempre piaciuta. Disegni fantasy, infatti anche quando ero piccolo e collezionavo Pokémon, Magic mi ha sempre affascinato perché c'erano creature... Diciamo per la tipologia di arte. Esatto, disegni molto belli, paesaggi, creature. Questa è comunque sempre la rivista. Sì, sì. Queste coppie sono simpatiche perché sono quelle delle festività. Questa qua è di Pasqua, Natale, Capodanno. E queste qua iniziamo a vedere le prime firme. Sì, esatto, eccole. Tanto Filfolio, nemmeno una firma così facile. Esatto, esatto. Minchia. Ragazzi, io non so, io non l'ho mai 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 meno vista. Vabbè. Qui invece vedo una roba strana. Spieghiamo un attimino. Allora, queste qua sono carte che sono state fatte... Sono tutti effetti carte, sappiatelo. Sì, sì, sì. Queste qua, vabbè, sono mini carte che sono state fatte dalla squadra di ricerca e sviluppo in Wizard per giocare tra di loro. Quindi si sono fatti questi mini mazzetti stampati con stampanti laser. Infatti una volta c'era un pezzettino, un po' di polvere su un angolino di una. Mi sono bagnato il dito per toglierlo. Ho tolto anche il colore. Esatto, anche il colore. Eh sì, perché è proprio fatto con... No, forse no, oggetto d'inchiostro, oggetto d'inchiostro. Oggetto d'inchiostro. E quindi ho fatto anche un mini danno. Sono fatte in casa, tra virgolette, però negli uffici della Wizard e quindi... Che figo. Sì, sì, sì. E anche queste sono playtest, suppongo. Queste qua sono invitational card. Ok. Sì, che sono state fatte... Alcune playtest, tipo queste qua. Vedete, per esempio, playtest cosa significa? Quello che va detto ora. Cioè loro, prima di far uscire il set, davano l'effetto alla carta e loro verificavano l'efficacia o l'impatto sul gioco, se cambiare il testo, se modificarlo. Quindi queste sono proprio robe... The Dark e Fallon Empire. Sì, sì. Porca troia. Poi qua vedi, Inv, Invitational, sono fatte prima dei tornei. A Devis doveva costare 3. Esatto, esatto. Leggerissimo. Esatto, sì, sì. Vedi? Curiosità. Devis, ragazzi, è una carta di leggende. Una carta bellissima, che al momento costa 4. Invece qui, in questa playtest, insomma, in questa carta Invitational, il costo di mana era 3. Poi hanno detto, forse è un po' troppo forte per farlo costare 3. Esatto. E l'hanno cambiata all'uscita. Quindi queste sono carte che precedono ancora l'uscita di leggende, che è del 94, se non sbaglio. Quindi immaginate quanti anni e che cazzo di strada ha fatto per arrivare in quest'album. Eh sì, perché certe carte escono direttamente dalla Wizard, da quegli uffici. Non entrano in commercio. Certo, certo. Cioè non vengono distribuite al pubblico. Sempre giri privati tra collezionisti, dipendenti, Wizard, così. E quindi passaggio di mano e finiscono nelle collezioni. Come hai iniziato a entrare poi nello specifico nel mondo delle oddities? Come hai iniziato a trovarle o a recuperarle o appassionarti? Allora, io in una bustina che tra l'altro ho ricevuto a livello dimostrativo quelle gratuite che ricevevi chiamando il numero verde e ti arrivavano per posta. Ho aperto e ho trovato una filler. Le filler sono delle carte bianche o a volte... C'è una X. Esatto. Che praticamente finiscono nei pacchetti per sbaglio. Sono praticamente dei tappabuchi nel foglio di stampa. Nel foglio di stampa. Esatto. E quando magari devono stampare 90 carte ma il foglio è da 110, li coprono con... Con queste filler. Con questi spazi qua, sì. Anche un po' il fatto che mi ha sempre affascinato avere qualcosa di abbastanza unico o inusuale e mi ha fatto arrivare a questo punto di collezionare almeno, e quello è l'obiettivo, almeno uno per di ogni stranezza. Sì, esatto, esatto. Tra l'altro vi vedo delle robe incredibili. Queste sono loro, no? Cioè sono i primi test... Delle foil. Delle foil, esatto, sì. Queste qui sono della saga di Urza. Sì. In saga di Urza le foil non c'erano. Ma Wizard stava iniziando in quel periodo a testare la fileratura. Sì. Ok? E quindi loro cosa facevano? Testavano allora il bordo argentato con questo colore. Il... Insomma, sono tutti test di foil per poi preparare alla terza espansione di Urza dove introdussero poi il foil definitivo. Effettivo. Infatti qui vedete, per esempio, c'è soltanto una stella. Le più famose di queste sono probabilmente la... Survival. Survival e la City of Traders. La City of Traders. Sì. Che sono le due carte più iconiche di questa roba, però vedete bene che i test venivano fatti anche su altre carte. Sì, sì. Questo che cazzo è che io non l'ho mai visto? E quello è un altro foil che hanno cercato di introdurre. Forse l'hanno fatto in certe promo. Tutte tipologie di foil che il wizard ha provato. Questa, tra l'altro, è molto più spessa di una carta... No, alcuni test non stanno lì a stampare anche il retro, stampano solo il fronte, esatto, esatto. Poi è molto più spessa, tu riesci a sentirla. Sì, sì, di una carta normale. Questo invece è un vanto tutto italiano. Sì, sì, esatto. Allora, questa qui, ragazzi, dovete sapere che, tra l'altro, sono uscite poco tempo fa. Sì, allora... Perché magari qualcosa girava, però io l'ho conosciuta in realtà pochi anni fa, perché uno ne tirò fuori un mazzo completo, o due mazzi completi addirittura. E questa carta, tra l'altro, all'inizio non si sapeva nemmeno se erano vere, un'era un vera, una cazzata, una ragazza, che non era una cazzata. In realtà poi è venuto fuori che erano dei mazzi dimostrativi per un Lucca Comics di non so quanti anni fa. E praticamente erano stati fatti un tot di mazzetti come dimostrazione e venivano dati alla gente che... Fatto sta che poi sono sparite nel Fanta Nulla e ora sono rispuntate e sono incredibili. ad uso dimostrativo, non validi ai fini del gioco, è più grande il board, è più grande di una carta normale, però sono quasi introvabili. Sì, non so quante ne hanno fatte, secondo me le usavano per giocare in stand, magari si voleva provare il gioco stava in stand lì a provarle, poi vabbè le lasciava lì, magari non poteva neanche portarsene a casa. Strano che non abbiano fatto con delle carte normali, ma fecero apposta un'edizione, c'è un'edizione, una stampa per quell'evento lì. Poi anche il retro è diverso. Che figata. Io ho preso il terrore perché è una delle mie preferite. Ma poi Spencer, insomma. Sì, sì, esatto. Poi faremo vedere qualcosa di Spencer. Non anticipiamo niente. Queste vedete invece sono altre oddities queste. Sì, sono senza testo. Sono uscite senza testo, non erano testo questi qui. No, che io sappia no. Queste semplicemente sono uscite stampate senza il testo. Qui per esempio vedo... Questo sì è un test. Ah, no, il cazzo. C'è delle arte... Queste sono carte dell'edizione. Sì, sì, sì. E sul retro c'è questa carta qui. Da qualche parte dovrebbe esserci scritto testo. Prerevisa. Sì, sì, è un test di una nuova tipologia di carte. Sì, le fecero queste edizioni queste carte componibili. Esatto. E poi qua è quando si stava studiando il simbolino anticontraffazione che è entrato poi. Poi? Sì. Queste qua sono diversi tipi. Ah, ok. Qua c'è una M. Volevamo fare... A un certo punto, non molti anni fa tra l'altro. Esatto. Hanno iniziato a fare questi bollini contro la contraffazione, appunto, perché la dorata Cina ha iniziato a stampare come degli stronzi, facendo perdere anche dei soldi a dei giocatori o a dei collezionisti, maledetti a loro, e quindi Wizard ha iniziato a studiare una metodo per garantire l'originalità della casa. Tipo una filigrana. Tipo una filigrana, esatto, bravissimo. E questi sono due prove, perché poi in realtà questo non è mai... cioè, è più grosso di quello che c'è l'altro. Sì, sì, è più grosso e ci sono dentro anche dei simboli. A volte la scritta proprio Magic, a volte i simboli dei... cos'è? Del multi... Dei planes... Dei planeswalker. Sì, sì, sì. Test card, vedete? Poi qua sembra che non ci sia niente, in realtà ci sono le carte. Ah, cazzo! E mica l'avevo visto. Sono le dark print. Questi sembravano quelle del comico, sembrano quelle del comico, in realtà, no? Ah, sì, sì. Sono praticamente delle pre-release che sono uscite così, con inchiostro nero extra. Un po' tanto extra. Un po' tanto extra. E la Quatus Champion, una roba del genere. E senza... Il russo, tra l'altro. Esatto, sì. E senza la classica data in oro delle pre-release. Vero. Che merav... questo non l'ho mai visto. Sì, sì. Meraviglioso. Molto belle queste. Queste, invece, vedete, c'ha il nome spostato. Esatto. Allora, dico subito che questo qua non è niente. Eh, beh, questo è lì, perché ti piace, cazzo che frega. Non è né una test print, né un army sprint. Allora, queste, se non sbaglio, sono dei test, anche queste di layout che stavano facendo. Esatto. A un certo punto, Wizard iniziò a voler cambiare il layout da quello vecchio a una nuova, un nuovo layout. E ci sono un tot di carte che poi sono uscite, dove c'erano queste prove, no? Questi test. Questa è una palude... Senza test. Senza niente. Esatto. Però anche qua è una sorta di test come colori. Infatti ha i colori delle summer. Esatto, te lo stavo per dire. Sì, sì. Poi ci sono anche queste qua che invece del testo vuotano proprio test printing. Perché sono dei test... Questa è proprio una mi sprint invece. Oh no, era un test anche questa. Queste sono... Eh, praticamente è una delle mie pagine preferite della collezione. Ok, vai. Parti. Queste qua sono le famosissime, per chi, vabbè... Per chi è dell'ambiente. German-French-Test-Print. Praticamente sono carte con nome, testo e costo di mana di una carta e immagine di un'altra. Quello che gli dà il nome è che sono in tedesco, però il copyright è in francese. Ok. E sono molto particolari. Se non sbaglio la più rara è quella che ha il buon Filippo, una delle tre al mondo che esistono, che è l'isola con il rito oscuro. Esatto. Quello è un pezzo, ci ha fatto vedere l'altra volta quando è venuto. È una roba... Fa paura. Quella è devastante. Incredibile. Però è di questa tipologia di carta. Sì, esatto, esatto. E questa invece è la stessa... Sì, esatto. German-French-Test. Sì, sì, sì. Io di queste qua va bene, ne avevo quattro. Questi sono artwork che si è fatto fare a André a pennelli dalla simpaticissima Amy Weber. Esatto. Praticamente ho fatto fare lo spiritello di Scrib perché la carta effettiva è lo spiritello. È lo spiritello di Scrib. Sì, sì. Che figata. E poi questa qua l'ho fatta firmare da tutte e due gli artisti perché l'immagine è di Melissa Benson e la carta però, il credito, è di Amy Weber e quindi le ho fatte firmare. Le altre non le ho fatte firmare perché sono... questa è una delle più comuni. Ok. Le altre sono molto più rare. Alcune uniche non le ho volute. Esatto, esatto, esatto. E questa invece è full white però firmata dalla Benson. Brava, sì, bravo. Qui abbiamo altre German-French. Con Filippo stiamo cercando di trovarle tutte, di collezionarle tutte però è molto 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 difficile. Questa cos'è invece? Quella lì praticamente è un bigliettino da visita della Wizard of the Coast che avevano lì allo stand. E' infatti venito a visitare il nostro... Il nostro boot. Il nostro boot. Esatto. Guardate che meraviglia. Sì, sono le carte dei mazzi... Dei championship deck. Esatto. Gli hanno appiccicato sopra questo adesivo. Questo qua è un adesivo. Ah, questo è proprio un adesivo. Sì, sì. E magari le davano alle convention come volantinaggio. Certo. Per chiamare appunto visitatori al loro stand. Sì, sì. Vi rendete conto? Cioè questo è come Wizard e si faceva pubblicità agli eventi. Esatto. Voi vi rendete conto? Ed è firmata da Richard Garfield che è il creatore del gioco. Abbiamo Mark Poole che è il disegnatore della carta e qui vedo invece... Questo qua? Quella lì è stampata come firma. Ah, è la stampa del giocatore del... Esatto, sì. Perché tutti questi mazzi venivano fuori, sì. Qui invece che è sta roba stranissima? Sempre come quelle che si riescono a tirar fuori da quelle riviste. È un'altra pagina. Però queste qua sono in versione Pokémon. Quindi sono simpaticissime. Ok. Lo Yuzam. Cioè fecero le... La rivista fece le carte della... Cioè queste carte a tema Poké. Esatto. Infatti vedete Team Rocket. Esatto. Sempre Team Rocket. Lord of the Pits con Pikachu. Sì perché... Ma guarda il caos porco orbe con il... Bellissimo. Meraviglioso. Sì, sì, sì. Meraviglioso. Praticamente è una rivista che parla un po' di tutto, di Pokémon, Magic... Ovviamente queste non sono carte ufficiali ragazzi, quindi se lo sono potuto permettere perché non è che c'era... E di dietro c'è l'altra parte della pagina della rivista perché proprio le ritagli e... C'è proprio inserti ritagliati. Sì, 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 sì. Proprio la pagina, la ritagli dalla pagina. Questa è carta di giornale. Sì, infatti a volte si trovano incollate ad altre carte per apparire proprio più simile possibile a una carta. Però è più bello. Lo lasciate così, così si riesce a raccontare la particolarità. Qui iniziamo a vedere la roba ganta. Sì. È strana davvero, eh? Sì, sì. Queste sono davvero toste. Queste sono strane da appare. Sì. Dai, spiegaci un po'. Allora, nella prima riga troviamo delle Fallen Empire. Praticamente è uno dei set... Uno dei set dove ci sono più misprint. Non so come mai. Ok. Probabilmente erano impazziti i comandi delle... Esatto. Infatti sto cercando di completare... Quindi questo è il back, vedete? Sì, sì, esatto. Io sto cercando di completare il set o miscut o misprint. Sono a buon punto però l'ho un attimino abbandonato perché ci stavo diventando un po' matto. E ci credo. Che meraviglia. Praticamente, vedete, è stato stampata una carta sul back originale. Esatto. Quindi è tutto scuro, è tutto strano. Sì, il foglio. Come quando con la stampante devi stampare due fogli e lo metti dal lato sbagliato e dopo che esce il foglio stampato due volte ti fai... Queste sono uguali, la stessa edizione, vedete, sono stampate sul back. Esatto. Quelle è l'Imtuturac che è praticamente... Una delle carte iconiche del set. Esatto. Qui invece che abbiamo? Queste qua invece sono delle Unlimited Antiquities Test Print. Praticamente era un foglio Unlimited delle Rare. Ok. Infatti c'è anche il Black Lotus, io purtroppo non ce l'ho. Però vabbè, mi accontento. Rare Unlimited, dietro Comune Unlimited e Uncommon Antiquities. Che roba strana. Sì. Chissà che cazzo ne ha preso nel cervello quando hanno fatto sta roba. Forse avevano lì dei fogli che gli avanzavano e hanno detto, facciano delle stampate. Sta roba è fuori di... Io ve l'ho detto, quello che vedrete oggi non lo vedrete mai più in vita vostra, sappiatelo. È custodito gelosamente da Andre ed sono dei pezzi veramente unici. Ha per me una roba del genere, ha più valore del mero Black Lotus, passatemelo, ma non valore economico, valore di... proprio di spinta di collezionismo, cioè di ricerca, di soddisfazione. Perché questi sono pezzi... ecco, volevo anche arrivare lì. Cioè, quando te cerchi e poi trovi qualcosa, come la vivi? Come ti senti? È molto emozionante. Sì, sì, sì. Perché magari per trovare una carta di una tipologia che mi serve, ci metto anni, chiedo agli altri collezionisti, magari trovo chi ce l'ha, ma che non la vuole dare. Come Filippo, il Dark Ritual, conosceva due collezionisti che ce l'avevano, ma per nessuna cifra al mondo lo voleva andare. E quindi, quando ha trovato il terzo, gli ha comunque fatto un'ottima offerta e ha riuscito a farlo andare. A prenderla. Sì, sì. Poi qua ci sono... Vabbè, questo è sempre Fallen. Sì. Questo mi sembra di ricordare che dietro è normale. Ah, ok. È una doppia stampa sul front, invece. Vedete, il dietro è normale. Qui la cazzata l'hanno fatta sul... Quindi questa roba è uscita da un pacchetto, però. Sì, queste sì. Infatti le Fallen, a volte, se sei fortunato, o se eri fortunato, aprivi, trovavi le miscut, o le double print, come queste qua. Questa invece... Questa è giapponese. Sì, esatto. Un altro set, invece. Questo è doppio back. Guarda che bellezza. Quindi, edizione giapponese, stampa giapponese. Sì. Quindi hanno stampato il doppio back più una carta. Esatto. Cioè, qui proprio ne è scureggiato il cervello. Voi vi rendete onto di che cazzo di roba è? Quella lì, invece, è stampata due volte fronte e retro, dalla stessa parte. Dietro è bianca. Ah, ok. Sì. Si sono scordati. Eccoci qua. Qui iniziano le robe particolari non poco. Sì. Questi crossover non voluti, o voluti, chi lo sa. Questo qua è Wyvern, un altro gioco di carte, come per dire Yu-Gi-Oh. Esatto. Così, però, che è stato stampato sempre dalla Wizard. Dalla Wizard, esatto. Ed è uscito, appunto, con la serie Fallen Empire. Queste carte, però, non si trovano in pacchetti Magic, ma in deck precostruiti di questo gioco qua. Di questo gioco qua. Esatto, sì. Pensa te. Cioè, quindi, per trovare questa, non è che l'andavi a cercare, però, se tu usciva, tu usciva al massimo da un deck precostruito di questo gioco. Esatto, sì, sì. E invece uno voleva l'artina e lui, voleva giocare a Wyvern, invece si trova Magic. Quella lì è una Wyvern miscut, ma non Magic, perché altrimenti sarebbe una rarità iperassoluta. Quello lì, niente, è una token che hanno fatto per un anniversario di Magic, quindi al retro diverso. Questa sezione qua iniziano i misprint sul retro. Esatto, quindi questa qua viene introdotta da altri giochi, come Pokémon. Questa qua, appunto, è stata stampata fronte e retro nella stessa faccia e poi dietro, no? Perché vi ricordiamo che questa è comunque, ai tempi, una produzione Wizard. Sì, sì, esatto. Questo, vedete, è un back albino, direi. Sì, questo è abbastanza recente, tra l'altro. Sì, vedevo. Questo l'ho trovato tipo un anno, due anni fa, già l'ho presa. Questa qua è bellissima. Bah, che meraviglia. Sì, questa è una delle mie preferite. Doppio back con un back albino. Esatto. Mamma mia, che meraviglia. Star Wars, invece. Star Wars, niente. Questa è fatta a livello amatoriale. Ah, ok. E queste qua si trovavano in riviste giapponesi. Ok, quindi sempre una rivista. Degli inserti, sì. Questa qua, però, è proprio spessore, carta e tutto di una carta giusta. Giusta. Sì, sì, sì. Questa è meravigliosa. Che cazzo ha detto? E questa qua è un mazzo di carte da poker. Ah, ok. Sì, sì. E lo fecero con questo back? Esatto. Questo perché è pitturato? Allora, praticamente quello lì è pitturato perché Jasper Mirfors ha disegnato... Jasper Mirfors è il primo art director. Esatto. Del... Ha disegnato proprio il back. E quindi ho preso una filler, quindi questo qua era bianco prima. Ok. Dietro c'è una magic, è firmata da lui. Gli ho detto, ridisegnami, ridipingi il back nel fronte che è bianco. Quindi è un, diciamo, un lavoro artistico. Esatto, sì. Che hai messo nella pagina del back, giustamente. Esatto, dei back, esatto. Qui vedete robe folli. Questi sono tutti i back misprint, diciamo. Sì, sì. Lì è una striscia di nastro adesivo... È rimasto da fabbrica. Dal foglio, sì. Dal foglio. Esatto. Questa che cazzo... Quello lì è un bigliettino da visita di Dave Howell, che era uno dei primi della Wizard, uno dei primi. Ok. E il back del bigliettino era così, bellissimo. Poi questa qua è un antiquities test print. Ah, questa è una test print delle antiquities. Sì. Che meraviglia. Antiquities, ragazzi, stiamo parlando di 1994, eh. Ve l'avevo già fatta vedere l'antiquities, me l'avevo già parlato. E questo è come stavano provando a stampare, diciamo. Esatto. Questa è uscita col bollino. Questa qua è rarissima. Ok. Unica. Unica dentro. Esatto. Praticamente all'inizio stavano cercando un modo per non far contraffare le carte. Ok. E questo qua è tipo il simbolino anticontraffazione, però fatto sul retro. Poi non è andato in produzione. È un po' invadente. Esatto, sì. È una beta, questa qua. Ah! Sì. Posso? Sì, sì. Queste sono molto, molto rare. 1993, ragazzi, eh. Sì. Questo qua è tipo il bollino che c'era sulle... Sì, su CD, su VHS. Esatto, esatto. Sui giochi della Play. Sì, sì. Tenendo in mano un santo graal. E quella sì è molto rare. E lì è una Magic Magic, cioè... Double Magic. Double Magic, esatto. Della stessa serie delle German-French. Perché alcune German-French hanno il retro, i bordi del retro bianchi. Ok. Non l'avevo detto prima. Qui abbiamo... Questa non è niente, questa è fatta così a casa. Questa qua è un retro firmato da Garfield con la firma vecchia che mi piace tantissimo. Esatto. Questa qua praticamente è una carta Magic a tutti gli effetti, però la colla che c'è in mezzo non ha fatto presa. E quindi le due parti si sono scollate. E è rimasta sta roba. Esatto. Infatti il blue core che c'è in mezzo alle Magic è quello lì. Sì, sì. Pensate. E quella è tipo una filler. Ok. Dietro c'è una carta. E il back è così. È tutta roba originale, ragazzi. Sì, sì. Quando non sono originali, tipo questa, vabbè, questa qua, lo dico. Che meraviglia. Questi li abbiamo visti, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, quelli lì sono i poker deck. Questi sono i poker deck firmati, però qui abbiamo il buon Christopher Rush ormai deceduto, la grandissima Melissa Benson. E questi sono, vedete, carte da poker che uscirono tanti anni fa, tra l'altro. Queste invece? Allora, queste qua sono carte scherzo, che sono uscite Magic, scritto così, e non sono ufficiali, però per i collezionisti di curiosità legati al mondo Magic. Sono comunque robe che fanno parte del... No, beh, questa qua è una Bicycle Miscat. Ok. Perché comunque anche queste erano prodotte da Wizard. No, non penso. Infatti non so come possa essere possibile una cosa del genere. Esatto. L'abbiamo trovata, sempre io e Filippo, da un collezionista americano e l'abbiamo presa. Questa è una carta, tra l'altro, molto recente. Sì. Molto, molto recente. Infatti non sappiamo come possa essere possibile una cosa del genere. In qualche maniera è successo. Anche questo non so come possa essere possibile. Si può usare come sottobicchiere. Esatto. C'è proprio la stampa del sottobicchiere della birra. Esatto. Però è qui, una carta di Mirage in giapponese. Esatto. Che cazzo di meraviglia. Harry Potter. Sì. Altro gioco che era stampato da Wizard. Esatto. E qui invece abbiamo una bella carta di assalto. Col back di Harry Potter. Esatto. Meraviglioso. Abbiamo anche, che non ho portato perché ce l'ha a Fili, una Magic Pokémon. Dietro Pokémon. No, no, davanti Pokémon e dietro Magic. Con gli angoli squadrati l'abbiamo passato a certi. Cos'era un Nido King? Noi abbiamo il Nidoran. Nidoran, ok. A me mi passò sotto mano il famoso Blastoise. Blastoise, anche a me. Eh, anche a noi. Mi sono mangiato le mani di non averlo petto. Eh, però c'era un botto di dubbio. Io iscrissi a Dario, eh. Bravo. Gli mandai la foto e mi disse, guarda, non si riesce a capire se è vera, se non è vera, non ci sono fonti. Esatto. Fatto stai che io a tempi la potevo prendere a? La propose a 12.000 dollari? Io 5. Eh. Sì, sì, sempre agli Stati Uniti. E ora vedo pistole stanno sparando a cifre... Sì, più di 100, 200. Assurdo, assurdo, davvero. All'acchi. Però il font non mi convinceva, cioè sembrava fatto al computer. Esatto, era veramente strano. Immaginatevi un Blastoise che non ha l'artwork nemmeno del set base. Sì, era quello... Era quella del Pokémon Blue, una roba del genere. Con un layout un po' diverso e dietro... La foilatura anche era completamente diversa, c'era argentata. Square corner, quindi con gli angoli squadrati e dietro c'era il back di Magic. Una roba assurda. C'è uno sbravo, una sborrata, no, il rilievo. Un pezzo di qualcosa, di gomma. Sì, si è sciolta probabilmente. Questa tira la pure fuori, doppio fronte. Ma che figata! Esatto. Ma che figata! Esatto. Questi sono dei back stampati. Esatto, sì, qua non c'è molto da... Non sono strappati, ragazzi. No, no, no. Ma proprio il colore. Sì, sì, sì. È come se ci fosse stato tipo appoggiato un foglio sopra e il colore non c'è andato. Esatto. Per far capire loro che... E queste qua anche sono stampate, non c'è niente di incollato. Sì, sì, sono proprio uscita la stampa così, stranissimo. Adesso per qualche pagina andiamo avanti così. Però alcuni sono molto particolari. Questi sono miscut. Sì. Questi sono tipo... È il bordo del foglio di stampa, no? Sì, esatto. Che è stato tagliato storto e qui c'è venuto questa roba. Qui uguale, tagliato storto. Qui invece ci sono delle colorazioni particolari, anche misprint, tra l'altro. Sì, queste sono un limited, alcune un limited, altre beta. Minchia! Sì, sono più scure e in più anche miscatto. Anche miscatto. Porca troia. Andiamo. 1993. Questo praticamente è un mazzo commander che è uscito un disastro. Praticamente quattro volte è stato stampato. Hanno proprio fatto una cazza. Due sul fronte, due sul retro. E il ragazzo che l'ha trovato... Ci ha fatto i soldi. Infiniti. Infiniti perché ognuna l'hanno messa all'asta, hanno fatto proprio un lavoro fatto bene. Ogni carta o comunque a gruppi di tre o quattro l'hanno messa all'asta e finivano a cifre A cifre folli. Proprio perché ce ne sono cento. Quelle sono? Quelle. Sì, perché i mazzi commander quando escono misprint è tutto misprint. Perché è un foglio... Un foglio unico tagliato e messo. Esatto. Esatto. Quindi esiste soltanto quel mazzo lì che compri in quel modo lì. Esatto. Per ora è uscito solo questo misprint in questo modo. Infatti chi l'ha voluto l'ha pagato abbastanza. Certo. Qui vediamo altri back assurdi, sbiaditi. Questo penso sia dettagliato strano, no? Al contrario magari. Forse è upside down, davanti. Sì, vedete? Hanno sbagliato qualcosa. Sì, esatto. Il verso. Del foglio del verzo. Esatto. Poi ce ne sono alcune di là che sono proprio colori assurdi. Mamma mia che meraviglia. A guardare lo schermo non si capisce proprio... Questo qua è proprio rosa rosa. A volte ci sono un po' di macchie, a volte scarseggia l'inchiostro. Questo non è uno che ci si è soffiato il naso, ragazzi. Si è uscita stampata così. Che cazzo di... Poi queste qua, anche questo non è un buco nel raccogliettore, ma... Ah, perfetto, non è nemmeno reso conto. Come quell'altro, vedete? Sì, poi vabbè, blubino, albino. Qua mancano tutti i colori, c'è solo il bianco e nero. Blubino, albino. Sì, sì. Macchie varie. Dei dalmata sono queste altre. Questa è tutta roba di stampa, ragazzi, eh. Non sono rovinate o danneggiate. Sono belle anche singole, però quelle, esatto, sì. Guarda che roba. Sì. Qui ci si è pulito il culo, guarda il culo. Sembra. Mamma mia. Filippo ha una carta assurda. Praticamente ha una cosa del genere, però sul front, che prende quattro carte. Sembra un'onda energetica. Davvero, eh? Bellissimo. Vedete, queste sono tutte accoppiate. Insomma, accoppiate tutte in combo. Ma anche trovarle poi così è tosta. Sì, sì, sì. L'unica che ho trovato io in un pacchetto era una con gli angoli quadrati. Quadrati. Ne ho trovata una. E poi con una macchia, ma non così grosse, sul retro. Non ho mai avuto la fortuna di trovarle nei pacchetti. Però io mi ricordo, tra l'altro a un war, quando si fece il Chaos Draft. Revised. Che uscì la bustina Revised o FUB. Mi ricordo. Mi sa Revised. Mi sa Revised. Completamente miscatta. Esatto. Guardate che cazzo di roba assurda. Questo qua è proprio un foglio tutto così a macchie. Ho cercato di riprodurre il più possibile la sezione del foglio. E qui invece si torna alle test. Sì, altri test. Altri test che stavano, esatto. Dove stavano provando i nuovi layout. Esatto. Layout che poi non sono mai usciti questi in commercio. E qui vedete, per esempio, era casting cost sulla destra verticale. Qui casting cost sulla sinistra in verticale. Con delle sezioni diverse. Il simbolo qui o il simbolo da un'altra parte. Vedete qui, per esempio, qui. Qui in fondo a destra. Insomma, erano tutti i test che stavano facendo per... Di layout. Per vedere come cambiarle. Poi hanno fatto ottava. Sì, sì. Quella gran merda. E... Dicevo. Queste invece? Queste qua si chiamano Middle Age. E sono degli adesivi. Degli sticker. Ah, proprio sticker. Sì, non sono ufficiali di Magic. Però hanno sempre un po' lo stesso layout. E chi colleziona queste particolarità le associa comunque a Magic. È qualcuno che magari ha voluto imitare lo stile. E speravano lo stesso successo. Tra l'altro sono del 94. Però, vabbè, loro non hanno avuto lo stesso successo. Direi che non è proprio la stessa tipologia di roba. Però, insomma... Apprezziamo il tentativo. Sì, sì. Poi erano adesivi. Oh! Queste sono le famose filler. Quindi, cosa sono? Vuol dire che in un foglio di stampa ci sono dei buchi dove per numero di, diciamo, di carte che ci sono nell'edizione non c'è niente in quello spazio. E quindi ci vengono messe queste famigerate filler card. Che poi, in maniera per caso, diciamo, entrano nei pacchetti che la gente può sbustare. Esatto. E di queste ci sono ovviamente più comuni e meno comuni. Ci sono filler che si trovano più spesso e filler che si trovano molto più difficili. Esatto. Per esempio, questa qua si trova solo in lingua italiana. Ce ne sono due. Io a un certo punto le ho avute tutte e due. Poi un mio amico collezionista americano me l'ha chiesta. Abbiamo fatto uno scambio. Io ho preso cose. Ci sono due al mondo? Di quelle, sì. Due in italiano e due in francese. Conosciute. Cosa hanno di fare il titolare? E indietro è una filler. Ah, il back? Sì, sì. Ah, indietro è una filler. Sì, sì. Poi questo qua è una filler di quel foglio. Con le stampe strane. Con i fogli datori strani. Con il test di foilatura. Infatti è molto più spesso anche quella. Questa è molto rara, immagino. Sì, non ne ho viste molte. Sì, sì, sì. Abbastanza. E qui invece di queste filler, quale sono le rote? A parte lei, appunto, che è una. Sì, sì, beh, quelle due lì sono le più rare. Poi qua proprio di raro raro non è che c'è tantissimo. Qua invece cambia un attimo. Si vola la situazione. Sì, sì. Queste sono comunque abbastanza... Esatto. Questa è abbastanza rara perché ha i bordi argentati. Che è di Unglued o Uninged. Una delle due edizioni. Queste qua sono bellissime. Abbastanza rare. Queste sono meravigliose. Eccoci qua. Queste sono filler card. Full black. Ecco, vedete, una è square corner, l'altra invece ha gli angoli stondati. Queste qua sono tra le mie preferite. Eh, sono bellissime. Sì, sì. Sono veramente meravigliose. Questa non è Magic, ma è del Signore degli Anelli. Ok. Altra filler card, quindi. Sì, sì. Ci sono anche di Yu-Gi-Oh! Signore degli Anelli. Queste sono filler NFC, però. Ah, non fattori card. Esatto, esatto. Quindi c'erano dei fogli che magari sono stati vinti. Sì. E qualcuno ha messo, ha tagliato quella parte e l'ha messo. Esatto. Queste robe strane? Quelle sono, cioè, a me sono tra le mie preferite proprio come carte in generale e sono state stampate con proprio il logo di Magic. Cioè questa è una filler stampata con il logo di Magic. E qua, tra l'altro, questa qua ha... Questa è full black. Quella è la più... No, forse questa è la più rara. Questa. Tra queste. Però quella è full black e si vede in trasparenza anche... C'è una versione ancora più rara di questa. Di queste ce ne sono 4 o 5. Ok. Che è tutta pixelata e di quella lì ce ne ho una o due al mondo. Qui vedete, si vede proprio lievissimo. Sì. Infatti molti la scambiano per questa, una di queste due, che sono proprio le full black filler. Ah sì, è chiaro. Queste sono due Magic Magic. Doppio Magic. Esatto. Vi faccio vedere che cos'è. Ah no, forse è di questa, mi sbagliavo. Magia. Che c'è sia square corner che bordi normali, angoli normali. Io però ne ho due squadrate. Se qualcuno avesse quella a bordi rotondi, ad angoli rotondi, la scambio. La scambiamo. Ok. Qui abbiamo altre filler, vedo. Sì. Questa è full black sempre. Sì. Questo che è? Questa qua, non so spiegarlo bene perché non so bene la storia, però ultimamente sono uscite queste qua con la scritta Void. Void. Proprio perché dovevano essere scartate. Doverano sparire. Esatto. Invece sono finite nei pacchetti. Probabilmente sono sempre filler e invece di farle monocolore hanno fatto carta per mantenere. Se qui fosse stato 104 ti avrei fatto un'offerta. Perché? Una cosa particolare. Cosa è tua. Ok. Sì, vabbè, però ci sono... È progressivo. È progressivo. C'è anche 104. Sì, 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 mi sa di sì. Ah, vogliamo. E le hanno fatte in verde, blu, rosso e nero forse anche, tra quattro colori. Ok. Queste qua sono quelle che dicevamo prima. Ok. Che dicevi tu. Però queste qua praticamente escono dalle bustine. Dalle bustine. Così, sono state proprio stampate male in serie. E messe al posto. In serie. Non sono test. Ok. Sì, questi sono grandi classici, insomma. Sì, sì, sì. Bellissime. Queste qua, proprio perché, vabbè, alcune sono rare ma non rarissime, le ho fatte firmare da tutte e due gli artisti. Certo, l'artista che ha disegnato l'artwork e l'artista che invece c'è scritto sulla carta. Questa è solo da lui perché sia l'immagine giusta che quella sbagliata sono sempre solito. È sempre solito. Questi qua sono praticamente i buoni per ritirare i pasti ai GP e ai vari eventi. Esatto. Che meraviglia. Questa qua è proprio interna della Wizard, mi sembra. Sì. Ricerca e sviluppo, launch party, launch party. E questa qua l'ho voluta perché c'ha la pizza in mano. Eh beh, certo. Non è per te questa. Dovevo averla per forza. Qui, vedete, questa non state svisionando. Esatto. Non è la camera che è impazzita ma è proprio la carta che è così. Questa è una delle misprint più estreme che ho. Un disastro, un disastro praticamente. C'è anche una piega nel foglio che secondo me è quello che ha fatto svarionare un po' la stampante. E ci sta. E l'ha fatta venire fuori così strano. Vedete, non è uno strappo, non è proprio una... Sì, è una piega che c'è sia sul fronte che sulla carta. Cioè, come se la carta si fosse aggrinzita. Sì. Sotto pressione. Sì, esatto. Magari non era proprio asciugata bene la colla che c'era... Questa è che cazzo è che è successo. Un bolt firmato. Però queste qua sono tutte NFC. Sì, queste le ho riviste. Anche questa è una bella svisionata. Vedi, lì c'è tutte le sfocate. Questa è molto particolare perché una parte è stampata in francese e l'altra in inglese. Eh sì. Guarda che meraviglia. Erano indecisi le hanno stampate tutte e due. Tutte e due mettiamo lì. Con la traduzione già inclusa nella carta. Questa è molto bella perché praticamente Ron Spencer e Therese Nielsen sono fratello e sorella. Fratello e sorella e sono tutte e due nella scuola della carta. Esatto, esatto. Prima o poi la farò firmare anche da Ron. Non l'ho mai spedita perché dovesse perdersi, mi dispiacerebbe. E sarebbe una bella rotta di calza. Questo è un pantano insanguinato super miscut. Sì. Questa carta ultra giocata tra l'altro, vedete? Sì, ecco, miscut è quando si vede l'altra carta off-center, invece quando... Quando è molto spostata. Esatto, esatto. Ah, questa ti piace sicuramente. Questa è una cosa pazzissima. Cos'è questa cosa? Praticamente è miscut. E' stata stampata su un foglio che dentro la stampante era piegato. Quindi se tu... E' un po' delicata, quindi magari... Ah, sì, sì, c'è il doppio foglio. Si può alzare. Sotto è bianco. Lo facciamo? No, 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 no. Sotto quella parte lì è bianca. Cioè questo, ragazzi, è un foglio. Esatto. Lo sento. E poi, cioè, è attaccato, eh. Se tu lo apri a lì, qua è attaccato. Vabbè. Questa parte qua è attaccata, quindi non si stacca. La puoi aprire a lì. Ah, a lì proprio. Sì, esatto, esatto. Sì, sì, sì. Questo orso grizzly unico al mondo. Esatto. Che figata. Questa è molto bella. Devi convincere Filippo a dammi quella cazzo di Cabal Therapy. È la terza sarebbe. E poi ne manca una. Cercherò di convincerlo. Devi fare pressioni. Va bene. Non fido di te. Questa abbiamo vari miscut. Sì, sì. Questa firmata da Rush. Queste sono tutte... Minchia, miscut Arabian leggerissima lei, eh. Queste sono tutte factory cut. Ah, ok. Tranne quelle là. Che sono NFC. Esatto. Ok. Quindi queste sono uscite così dalle bustine proprio. Anche perché di foglie Arabian non tagliati non se ne conoscono. Eh, no. E quindi... Credo bene. Vedo, insomma, c'è anche una carta, insomma, che è importante. Sì, ne ho avute altre off-center o leggermente miscut. Questa qua è una di quelle più... Meravigliose. Più miscut che ho avuto. E queste... Ah, qui ci sono le dual. Sì, le dual. Quelle sono NFC però. Esatto, sì. Questo album è finito. Questo primo album è finito. Ne abbiamo altrissimi. Allora, ragazzi, io... Quello che è contenito in quest'album è veramente una reliquia per ogni collezionista. Perché poi uno può essere più o meno appassionato alle oddities, a queste robe qui. Però trovare un insieme di una collezione che abbia così tanta verità, che richieda così tanto impegno, così tanta ricerca, cioè, è veramente una roba incredibile. Affascinante. Veramente affascinante. Sì, no, è... Cioè, non ha idea... Non sono un collezionista essenzialmente. Però quando trovo questa roba, quando vedo, mi innamoro. Perché riconosco che dietro c'è una passione che è senza una fine. Sì, sì. Più che altro le carte... Normali possono essere più o meno rare. Però, vabbè, le trovi tendenzialmente. Volendo, sì. Queste qua alcune sono quasi uniche. Sì, sì, trovarle è... È veramente difficile. Esatto. Come intervallo... Intervallo. Mentre va a prendere l'altro album, André ci appoggia le due chicche. Allora, partiamo da quella che so, che conosco, ragazzi. Allora, questa qui è la delicatissima Splendid Genesis. Quindi questa è una di 110 che sono state stampate. Che Richard Garfield fece stesso, fece stampare in occasione della nascita del suo primo figlio. Del suo primo genito, in assoluto. Poi, oltre a queste, esiste la Fraternal Exaltation. Che è quella blu. Che è quella blu, che è quella per il secondo figlio. Esatto, che è stata stampata... In 250, mi pare. 220. 220, ok. L'origine del tutto, che è la proposal, che è qualcosa di folle, insomma. In teoria dovrebbero essere tre copie, no? T3, una è stata rubata in Giappone, da Hoover, tra l'altro. Esatto. Che era il disegnatore. Esatto. A Hoover, è stata rubata a lui. Una l'aveva il disegnatore, una l'aveva la moglie di Richard Garfield, l'ex moglie, e una Garfield. Io ho avuto la fortuna di averla in mano. Ah sì? Sì. Cazzo. Siamo andati a Ginevra a prenderla in mezzo alle montagne, in una banca, nel cavo, è proprio una cosa... Cioè, perché una di quelle è posseduta da un collezionista, ora? Sì, sì, sì. In Giappone. E si sa chi l'ha presa? Eh, non posso dirlo. Non si può dire. Porca puttana, ragazzi. Va bene. Quindi questa è una carta di 125 che esistano al mondo, ragazzi. Fatta apposta fare da Richard Garfield. E questa invece è una roba totalmente diversa, che è tipo un test di una carta di credito. Esatto. Fatta con Magic. Poi non è mai diventata carta di credito ufficiale, però guardate che capolavoro. Ecco, ma avessero fatto una roba del genere, io sarei andato da quella banca, per forza. Eh vero, esatto, esatto. Io ho visto quelle della Juventus, ne ho visto una bellissima con un Game Boy, non so di che banca sia. Ah sì? Sì. Non lo dì a Dario, che ultimamente con Game Boy sta avendo un po' di problemi, per favore. Apre un conto apposta per la carta di credito. Per la carta di credito del Game Boy. Forse è un banco, ma tra l'altro. Vieni. Allora, qua ho portato praticamente la collezione che sto provando a fare, alfa e beta, mix, firmata e, quando possibile, alterata. La scelta di fare le mix è perché il loto è alfa e non potevo prendere anche il beta. E non potevi anche il beta. E allora, e non potendo farla proprio tutta alfa, ho detto, vabbè. Vabbè, dai, ci accontentiamo di farla. Ci accontentiamo di fare. Ok, ragazzi. Ecco qui, una cartina leggerissima. Non è dieci in condizioni. Non è dieci in condizioni, è in dieci nell'autografo. Esatto. Questa è un'autenticazione della firma. Della firma. Delle firme. Delle firme. Richard Garfield e Christopher Rush. Sì. Ecco. Allora, ragazzi, quella che io sto tenendo in mano è una di quelle che si dicono essere poco più di mille mai stampate al mondo. Esatto. Di Rare Alfa. Sì. Nello specifico il Black Lotus. È un onore tenerlo in mano e potervelo far vedere. Perché è la carta, ragazzi. Questa è la carta del TCG. Non esistono cazzi, non esista Pokémon, non esiste Illustrator, non esiste un cazzo niente. Qui non si parla solo di soldi. Qui si sta parlando di quanto questa carta sia iconica. E quanto sia importante. Nel mondo del gioco, del collezionismo e di quello che rappresenta in assoluto. Poi Garfield c'era già la firma quando l'ho presa. Invece Rush l'ho fatto fare di persona a Las Vegas. Che meraviglia. Infatti prima era di Philly questa carta. Ok. Ce l'aveva lì da vendere tutto. Abbiamo detto vabbè solo di Garfield non ha senso. Cioè qua Rush eravamo lì a Las Vegas appunto. Facciamogliela firmare. Certo. E poi. Abbiamo detto mi raccomando fai una firma bella fine. Bellissima. Esatto. Cioè questa firma è meravigliosa. Quando io l'ho vista firmata ho detto oh no vabbè. Deve essere mia questa carta. Tienimela che in qualche modo facciamo. Prima o poi te la compro. Esatto. Esatto. Questa carta è meravigliosa. Sì quella firma lì di Rush è fantastica. Grazie Andrea. A te. Grazie mille. E questo è il completo della collezione che vi ha spiegato che fa alfa e beta perché aveva già il lotto alfa. E qui lui la sta facendo full firmata o alterata. Sì. Quando possibile. Quando possibile. Qui vedete queste sono alterazioni a pennello. Questa l'ha fatta tra l'altro al War. Sì sì. Eh per forza che c'è la firma estesa. O forse l'avevate. Vabbè. Forse l'ha fatta fammiche. Esatto. Sì sì sì. Balance fatta a pennelli. Questa altra alterazione. Guardate che meraviglia. Questo è un circolo di protezione alterato. Bellissima questa firma. Tra l'altro. Sì. Tra l'altro. Una di quelle vecchie. Sì sì. Avere le carte vecchie con le prime versioni di firma è molto bello. È meraviglioso. È stato firmata a Bic probabilmente. Sì sì. Lui firmava con la penna a sfera. Anche questa è firmata a Bic perché è lo stesso artista. Alcune carte che ci sono qua in questo set fanno parte del primissimo set firmato al mondo che era proprio di Dave Howell. Quello che abbiamo visto prima il bigliettino da visita. Perché lui praticamente ha uno dei primi eventi di Magic con tutti gli artisti. Avevano aperto i pacchetti di Alfa e lui si è fatto firmare il suo set dagli artisti. Poi di recente ha iniziato a venderlo e alcune carte sono sue. Sì sì. Che meraviglioso. Io lo conosco e le ho prese da lui però ho anche il certificato che quelle carte arrivano proprio dalla sua collezione. Firmato da lui è tutto. Anche perché ci penso ci siano delle firme veramente quasi introvabili. Sì le Uber sono tra le più difficili. Queste tutte firmate, alterate. Alcune, quelle che proprio non ho la versione ancora Alfa e Beta sono Collector ma proprio poche. e dopo vedremo un paio di P9 Unlimited che anche quelle... Atworkate. Esatto. Che prima o poi farai l'upgrade. Vediamo. Forse. Qui manca qualcosa. Eh manca sì, alcuni buchi ci sono qua, non è proprio... Questo è meraviglioso. Quello è bellissimo sì. Mamma mia. Guardate la spigata, alto Alfa e il Serra Angel. Questi sono fatti a pennelli ragazzi eh. E qua già iniziamo a vedere una Uber. Qui vediamo una... Posso? Vai vai vai. Vedete? Questo è Wrath of God, Ira di Dio, firmata da Quinton. Io ne ho due firmate da Uber. I giapponesi, quarta blackboarder giapponesi. Belle. Le ho dovute comprare appena l'ho visto. Poi la sua firma è bellissima e i suoi artwork sono bellissimi e mi è andata bene perché tra l'altro me le ha vendute Philly tutte le sue firme, tutte uguali e tutte in Armin. Che bellezza. Quindi ho avuto la fortuna di prenderle. Qui la prima Power Nine troviamo. Guarda è bellissima. Ma quanto cazzo è bella. L'ho fatta fare da poco tra l'altro. E si vede che è uno stile un po' più fresco. Sì, prima erano... Esatto. Guarda che bellezza. Anche lo stile delle alterazioni si è evoluto. Prima partivano tipo così. Era molto tutto più minimo. Esatto. Vedete bianco e nero, appena dell'ini. Poi piano piano, piano piano hanno iniziato a lavorare in una maniera molto più completa. Sì, sì. Dettagliata. Guardate questa roba. Questa sembra una stampata così. Sì, sì, alcune si fa fatica a distinguere che sono alterate e non stampate. Qua chiedono in che senso le hai fatte fare. Le alterazioni possono essere commissionate o di persona agli eventi dove ci sono gli artisti che fanno le firme e appunto le alterazioni. Oppure commissionandole direttamente nel loro ufficio dove le fanno con più tempo e più materiale a disposizione. Quindi vengono fatte molto meglio. Ma questi arti che sono fatti dall'autore della carta, esatto, vengono fatti dall'artista che ha disegnato l'arte originale. Perché si fanno? Per passione, perché si ama l'arte dell'artista nello specifico, perché si vuole dare, ma non un valore economico, un valore aggiunto, un lavoro, cioè un valore aggiunto all'arte. Cioè che non è soltanto la stampa della carta o la firma, che comunque c'è un qualcosa da aggiunto, ma è un artwork. È proprio un artwork, un momento nel quale l'artista su quella carta mette all'opera la sua art. Esatto, sì, sì, infatti è bello vedere lo stile di ogni artista, lo stile diverso di ogni artista. Sì, sì, ultri riconoscibili, ultra riconoscibili gli artwork. Ce n'è solo una o forse due che non sono dell'artista originale, ma sono di artisti non ufficiali ma comunque famosi, che poi vabbè vedremo dopo. Quella è molto rara. Lei è la zia di Richard Garfield, tra l'altro. Sì, questa l'ho raccontata, la storia. Ah, ok. Questa è la storia, l'ho raccontata, ma vederla firmata, io ne ho regalata una al K, FBB, però ho firmato. Beta non l'avevo mai vista firmata. È sempre bello. Qui altre firme in quinto, vediamo altre due P9 leggerissime. Quella è Collector. Sì, è Collector. Questo Time Twister non ha senso da quanto cazzo è bello. Altre firme di Hoover, artwork incredibile del buon Maddox. Questo invece è un artwork vecchio stile. Esatto, che è comunque bello vedere ogni tanto per vedere l'evoluzione. In questa roba c'è proprio l'evoluzione. Sì, bravo. C'è proprio l'evoluzione di quello che abbiamo parlato già nell'altra puntata, cioè come nel tempo piano piano la figura dell'artista si sia evoluta nel mondo di Magic. Esatto. Ah, questo per esempio non è... Oh sì. Cosa? Questo l'ha fatta lui? Sì, sì, sì. Quella è sua. Porca pittana. Quella è bellissima. Meraviglioso. Il Lord of the Pit è bellissimo. Questa è la prima generazione della firma di Rush. Della firma? Sì. Guarda che figlio, se che non l'ho mai vista. Posso? Sì, sì. Dopo ci sono anche delle foreste. Vedete, questo è come firmava all'inizio Christopher Rush. All'inizio, sì. Mattissimo Maddox, come Art Solid. Quel Mickey Mouse lì è bellissimo. Questo l'ha fatta vedere a Dahlia. Sì. Qui abbiamo il vampiro di Senjir. Sin Call firmato, meraviglioso. Terror firmato. Qui abbiamo... Porca pittana. Sì, quello è bellissimo. Che cazzo di meraviglia. Qui invece torniamo al vecchio stile di alterazione. Chiedono se sono fatti sulla carta o sulla sleeve. Sono sulla carta. Sono assolutamente sulla carta, ragazzi. Anche quella Fireball lì è bellissima. Siamo sempre lì. Brutti malati. Dunque il Demonade Marcio. Qua una storiella da raccontare. Vai, raccontami tutto quello che vuoi. Allora, praticamente, quando i Black Lotus si potevano ancora spedire senza paura che venissero persi. O comunque poca paura. Avevo mandato un fulmine alfa da firmare e un Black Lotus Unlimited da alterare con un drago. Ok. Non ha capito. E t'ha fatto un po' su fulmine. E ha fatto il lotto firmato e il fulmine alterato. Fa niente. Va benissimo perché è devastante. Meraviglioso. Bello, bello. E peccato che c'era poco spazio per la firma. Lightning Bolt alfa. Sì. Sì, è venuto un po' storta. Sì, sì. Questi cazzi, cioè questa roba è incredibile. È bellissimo. E questa è anche lei una prima generazione di Rush sempre. Ah, eccolo qui, vedi? Qua si può vedere la differenza. Questa è come firmava all'inizio, sempre Christopher Rush, e questo invece come poi hai voluto la sua firma. Esatto. Vedete? Maravigliosa. Lo shivan alfa non me la son sentita di farlo firmare. Magari non gli funzionava bene il pennarello e l'ho tenuto non firmato. Eh, sì. Questa è anche questa, ragazzi, è un'altra carta veramente iconica. Ah, poi qua è una cosa simpatica da raccontare. Praticamente questo è disegnato da Dan Frazier e però il credito è di Mangues. Ah, quindi te l'hai fatta firmare da Frazier. Esatto. E da Mangues perché il credito è il suo. Però al contrario me l'ha voluta firmare. Ah, dici perché non è mia l'orata a firmare al contrario. Grande, Jeff, una persona meravigliosa. È così solo nella versione alfa perché nella beta è corretto. È corretto, certo. Uccellini doppio firmati. Berzer doppio firmato. Guarda, ma guarda che meraviglia. Che meraviglia. Qua ci sarebbe da fare un... Da chiedere se riescono a vedere dov'è l'alterazione. Dov'è qua? Tu vedi dov'è l'alterazione qua. È questo qui? No. Cos'è, la testa sua? Sì. Invece che essere dietro all'albero... Dietro il ramo è davanti. L'ho fatta far davanti. Però è fatta talmente bene che non si vede che è alterata. Che bellezza. Eh sì, infatti la mia è l'orso che non va sopra e rimane qui sopra. Quasi non si vede l'omino. Un bel salmone. Un bel salmoncino per lo zacchiotto. Questo praticamente è Collector Edition, il lotto. Certo. Alterato? Alterato. Con il drago che finalmente sono riuscito a farmi fare. A fargli fare su. Esatto. Su nel lotto. Carte meravigliose. Questo è un'altra Collector. Sì. Firma di Uber meravigliosa. Artwork di Tedin. Ecco, la sirena qua è l'unica alterazione non originale. Questo qua è Unlimited, non è beta. Ok. Però è Klug. Non so se... Sì, so chi è assolutamente. L'avevi forse anche detto nel prima... Sì, è uno degli artisti, diciamo, extra magic. Sì, non ufficiali di magic. Forse il più famoso in assoluto. Però è bravissimo. Perché è veramente, veramente, veramente bravo. Sì. Queste due non sono fatte dall'artista ufficiale. Unlimited lei. Unlimited. Esatto. Questa qua è distrutta ma è beta. Ok. E questa è Collector con gli angoli... Alpha, catted. Sì. Questa invece è alpha, beta, beta. Questa è alterata, tra l'altro. Sì. Questa è bellissima con la firma di Garfield. Estesa. Poi fine così è veramente meravigliosa. Questa è la versione glaciale dell'orb di legno. Sì, di fianco poi, tra l'altro, casualmente, di fianco al Winter Orb. Winter Orb e poi c'era il... Eccoci, un po' di base. Terre e base artworkate a pennelli. Queste robe sono incredibili. Meravigliose. Tutto a pennelli in acrilico, ragazzi. Sì. Guarda che bellezza. Che giustamente non bastava finire il set con le tre artwork. No. Facciamo incerta di terre e base artworkate. Diciamo che le terre e base sono quelle che si alterano più... Più volentieri. Di frequente. Si prestano ad alterazioni. Anche se ormai iniziano ad arrivare anche queste, ha dei costi incredibili. Sì. Guarda che bellezza. Porca puttana, Andre. Che bellezza. Buonanfese. Draghi ovunque. Draghi, draghi, draghi. Lui è bravissimo a fare i draghi. Che meraviglia. Che meraviglia. Qua è alterato il Peppa Pig. È stata fatta così un po' per scherzo da Dan Frazier. Ok. Poi l'ho data via. E chi l'ha presa ha fatto farla Guardian Beast da Ken Mayer. L'ho vista, mi è piaciuta. La rivolgo. La rivolgo. E me la sono fatta. Quindi invece andiamo su Douglas Schuller. Sì. Quindi ci sono degli sketch, diciamo, vecchio stile. Dei lavori a pennelli. Incredibili. Quindi queste sono artworkate e o firmate da Christopher Rush. Qui invece questa è una playtest card. Esatto. Allora praticamente queste erano le carte che venivano utilizzate. Vedete questa carta piccola bianca. All'inizio quando il gioco ancora non esisteva. Era soltanto un progetto, diciamo un prototipo. Sì. Che venivano utilizzate per giocare. Per verificare, per creare il gioco di per sé. Esatto. Quando c'era l'idea, ma ancora non c'era la realizzazione. Quindi dovevano trovare le carte, sistemarle, inventarle. Sì. E tra l'altro, quelle altre lì le ho fatte firmare dietro dal signore da cui le ho comprate, che era il playtester. Ragazzi, avete idea di cosa sto tenendo in mano? Cioè, questo ragazzo, questo ragazzo che ha firmato, era uno dei playtester. Esatto. Di Magic. E giocava con queste cartine. Madonna. Mamma mia, che bellezza. Che bellezza. Questa qua praticamente, in Arabian Night, c'è solo la montagna. Sì. In una rivista, invece, c'è anche, non è mai stata stampata, però c'è anche la versione dell'isola Arabian, fatta sempre da Pull, e io, vabbè, gli ho dato una... Una reference. Una alfa o beta. E gli ho detto, fammela però in quella versione lì. Che figata. E allora me l'ha fatta, sì. Questa proprio non la sapevo, vedi. C'era uscita su una rivista la versione dell'isola. Esatto. Non perdono valore o non contano come rovinate se ci disegni sopra. Non è quello il punto. Qui stiamo parlando di amore, di passione, di impegno, di esperienze. Perché poi te su queste carte quante volte potresti raccontare questa l'ho fatta firmare qui a quest'evento. Esatto. Con lui. Siamo andato dall'artista, siamo andati a cena. Cioè poi dietro a ogni roba c'è una storia, c'è un'esperienza. Cioè voi non avete idea, anche con lui, quante volte ci siamo beccati magari a GiraGP in giro per il mondo a cena con un artista o con due artisti o a cena fra di noi. Ragazzi, dietro a questa roba c'è una storia che va veramente ben oltre i soldi. Non è per fare il perbenista. È proprio così. Questa roba va veramente ben oltre i soldi. Sì, sì. È una passione vera e propria. Poi nascono anche delle amicizie. Delle amicizie. Con te, ma anche con gli artisti. Certo, con gli artisti. M'ha visto talmente tante volte, gli ho rotto talmente tanto le palle che han detto Charles, facciamoci all'amico questo. No, no, però è vero, belle esperienze, belle amicizie. Sì, sì, sì. Dai, diamo avanti se ne ha voglia. Andiamo avanti, certo. Ah, andiamo di leggerezza. Qui c'è un mix di bustine normali old school e bustine che ritornano a bomba sulle oddities. Cioè, questa la lasciamo come è dolcissimo in fondo. Cioè, bustine uscite strane, stampate male. Parto dalle normali. Esatto, proprio. Fallen Empires. Bustina, diciamo, abbastanza comune, trovabile. Questa che cazzo è? Questa non è una bustina. Questo è un Gilded Lotus gradato 9. Test print. Test print. Test card. Test card. Questi stavano provando probabilmente chissà cosa, chissà come. Qui abbiamo un'altra carta particolare. Questo è un Richard Garfield firmato da Richard Garfield. Però questa volta non sulla carta, ma bensì sulla scatolina. Dovete sapere che in queste edizioni che si chiamava Unglued, stamparono la carta di Richard Garfield. E Andre ha quella firmata. Tra l'altro al War l'ho fatta. Tra l'altro ha firmato al War perché fu un evento epocale quando riuscimmo a far venire il buon Riccardino Fuffolo e quella stronza della sua moglie. Ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti. Un leggerissimo pacchetto sealed di Legends. Ora però ti faccio vedere un album per i pacchetti che è meraviglioso. Qui abbiamo un pacchetto di The Dark. Bellissimi questi. Questi mi garberebbe anche a me mettere lì. Non sono un appassionato di sealed, però questi pacchetti hanno un fascino incredibile. Antichitis. Via, apriamo, no? Apriti il buco del culo. Già dal colore si vede l'arroganza del pacchetto, ragazzi. Questo è un pacchetto Arabian Nights. Queste buste sono tipo ormai quasi introvabili. Sì, abbastanza. Questo tra l'altro era gradato e in una spedizione però si è rotto leggermente il case. Allora abbiamo dovuto riprenderlo. Bellissimo sto pacchetto. Qui invece andiamo sui pacchetti strani. Sì. E abbiamo un pacchetto di Fallen Empires uscito incollato strano. Vedete? Tutto storto. Vedete tutto spostato. Qui abbiamo invece un pacchetto dove ci hanno stampato un po' di volte sopra. No? È trasparente. È trasparente? Sì, sì. Infatti dicevo no. Che cazzo è uscito? Praticamente qua mancava l'argento. Mancava l'argento sulla base. Esatto, sì. Ma questa è bellissima. È tratta anche recente. Sì, sì, sì. Questa roba che è stranissima. Allora, praticamente questo pacchetto sembra fatto a mano ma in realtà è uscito così. Sì, esatto. Cioè, questo è nastro adesivo che probabilmente univa i fogli delle bustine. Esatto. E loro hanno ben pensato di far andare il rule a dritto, la stampa, insomma, questa roba a dritto ed è venuta sta roba che tra l'altro sembra scombare. Sì. Perché sembra quasi che si componga. Sì, è difficile distinguerlo perché sembra proprio l'occhio del dinosauro. Sembra proprio l'occhio del dinosauro. Allora invece è un'altra... Qui c'era nomino, era un altro pacchetto. Sì, sì. Questo invece è il pacchetto doppio stampato di Iconic Master. Guardate che bellezza. Meraviglioso. E poi c'è un pacchetto. Io ho quasi paura a farvelo vedere da quanto... Io non ho... Ho visto il beta, ma l'alpha non l'avevo mai tenuto in mano. Questo non è in condizioni perfette, però... Ma sti cazzi! Ragazzi, questo è un pacchetto alfa. Non so se avete capito, ve lo ribadisco. Questo è un pacchetto alfa. Firmato da Garfield. Firmato da Garfield, da Roma 2009. Questo ha 30 anni praticamente. Questo è un pacchetto della prima edizione in assoluto mai stampata di Magic. che fu stampata, l'ho raccontato nella prima puntata del Mercoledì Magico. Fu stampata in edizione super limitata perché era proprio un esperimento. Poi andò istantaneamente sold out e quindi fecero la beta e poi la limited. Però ecco, questo... Io penso che così ne siano rimasti veramente pochi sealed. Voi non so se vi rendete conto di quanto è rara questa roba. Poi se c'è un loto sti cazzi, voglio dire. Meglio sì, ma non lo sapremo mai. Supponga. No, no. Non ti interessa saperlo. Anche perché sinceramente penso che qualcuno l'abbia sbirciato. Quando l'ho comprato doveva essere perfetto. E poi mi è arrivato così. Io l'ho preso nel 2009. Poi per fortuna non l'ho contestato e non l'ho mandato indietro. Perché vabbè, possiamo dirlo. Certo. L'ho pagato 200 euro. Mamma mia. Però di certo adesso vale abbastanza di più. Non si dice quanto, però... Non ce ne frega di quanto, ma va sicuro che è tanto di più. Però per fortuna non l'ho rimandato indietro. Vabbè, lo tengo perché ha firmato la Garfield. Secondo me l'hai tenuto soltanto perché l'ha firmato. Sì, sì, per quello. Se no l'avrei ridato indietro e magari più un altro. Mamma mia, che capolavoro. Questa invece è una carta molto particolare. Questa è iconica. Praticamente il set Summer. Summer è un set che è stato fatto in concomitanza con la Revised. Per sistemare degli errori delle Revised. Solo che ne hanno fatti ancora di più che nelle Revised. Questa qua è una carta che dovrebbe essere verde. Esatto. Invece l'hanno fatta blu. Esatto. Quindi costo di mana verde e tutto, però il layout è blu. Ed è una delle mie carte preferite. È meravigliosa. Sì, sì. Meravigliosa. Rara perché appartiene al Summer set. Esatto. È unica perché è un errore incredibile. C'è l'uricain bloop. È proprio anche questo molto iconico nel mondo del collezionismo. Sì, sì, sì. È otto e mezzo perché è molto difficile trovarli centrati. Eh, sì, si vede abbastanza di off-centering. Sì. Infatti è, se vedete, ve l'ho spiegato già in una puntata, come funziona il grading. Se vedete ha gli angoli 9,5, surface 9,5, i lati diciamo, gli edge 9, 9, no, 9, 9,5 e il centering 8. E come vi ho detto in Beckett le carte non possono avere più di mezzo voto sopra il voto minimo che hanno nei sottograding. Quindi la media sarebbe più alta, sarebbe almeno un 9, però più di 8,5 non gli potevano dare. Esatto. Non so veramente come ringraziarti, Andre, di quello che ci sta facendo vedere perché è una roba unica, 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 unica. Sono contento che vi piaccia. Set Arabian firmato, alcune alterate. Sì, facciamolo vedere perché l'antitichisi l'avevo già fatto vedere come set, però Arabian Nights no, quindi questo è completo firmato. Sì, alcune anche alterate. Ok. Quindi questa è una collezione Arabian Nights completa e firmata. Completa tra l'altro vedo anche con le versioni, con il colore diverso. Gli elefanti lì sono super rari, è una delle firme più rare che ho. Minchia, addirittura, sai che non avevo idea? Sì, sì, sono rarissimi. Ok. E come l'hai trovata da qualcuno o l'hai trovata dall'artista? No, no, li ho prese da un collezionista spagnolo che aveva contattato l'artista. Ok. Era riuscito a ottenere insomma qualche firma. Sì, sì, sì. Vedete, poi ci sono queste curiosità incredibili, cioè. Io un'arta che tra l'altro nemmeno ci avevo fatto caso. Sì, è una carta da niente. Da niente, cioè il valore della carta è quasi nulla. Sì, sì. In realtà poi ha una delle firme più rare che quest'uomo, che poi dopo vedrete che roba ha. oltre a Beta, Alpha e tutto il resto, perché la parte più bella deve ancora arrivare, artisticamente più bella deve ancora arrivare, sappiatelo. È vero, è vero. Guardate che bellezza sto set. Che cazzo di fascino ha, Rabian Nights. Sì, è uno dei miei preferiti. Veramente bellissimo. Qui carte iconiche, Bazaar, Library, City of Brass. E Fritte con la pizza perché lui ha una pizzeria. Eh sì, esatto, esatto. Alcune alterazioni le ho fatte fare con la pizza. Qui abbiamo Antichitis, che la schippo perché ve l'ho già fatta vedere, sennò c'è troppa roba, però è un'Antichitis full firmata, ok? Sì. Credeteci sulla parola. Qui abbiamo The Dark invece, sempre full firmata. Esatto, sì. Io, Andre, non ho idea di quanto tempo tu ci abbia messo a poter fare una roba del genere. Tanto, sì, molto, molto. E che soddisfazione deve essere finita. Soprattutto quello, esatto. Soprattutto la Antichitis è una delle più difficili da finire perché ce ne sono alcune di Kirsten Kaman che è una delle artisti più difficili da trovare firmate. È morta, anche lei purtroppo. Anche questa io non l'ho mai vista, cioè chi cazzo è? È il re di Aspult Fate. Ah beh, lui è... Si trova? Sì, sì. Vabbè, ho capito. Eccoci qua. Queste sono robe che si è fatto fandre da artisti vari. Vabbè, questo sono io in tutta la mia bruttezza. Nelle versioni fatte da artisti diversi. Qui abbiamo un mare fatto a pennello di robe Alexander. Sì, queste sono abbastanza semplici come sketch. Però sono cose simpatiche. Guardate che belline. Jeff Lubelstein. Guardate che bellezza. L'isola di Andrea. Qua quando mandavo le carte a firmare, gli mandavo anche la carta bianca, gli chiedevo di farmi un piccolo sketch e la firma nel testo e me le mandavano così. A loro piacimento. Qua non chiedevo... Non chiedevi niente, facciamo a loro. Sì, sì, sì. Figo, ci sta. Qualcosa in più nel... Sì, per vedere proprio il loro tratto negli sketch. Che figata. Una curiosità in più. Veramente bellissime. Qui la firma. Sì, alcuni non hanno voluto dare sfogo alla loro arte. Capia della firma e non rompere il coglione. Esatto. Grazie. No, grazie a te. Qualcosa abbiamo? Legends. Un'altra collezione leggerissima. Sempre fu firmata? Molto bene. Questa è stata difficile perché è molto lungo come se... È un set enorme. Sì. Mentre Arabian è proprio... E c'è anche tante carte di Uber, se non mi ricordo male. Già, solo in prima pagina ce n'è due. Esatto, sì. Questi considerate, ragazzi, che sono edizioni che sono uscite nei primi due anni di Magic. Sì, infatti è 94. Quelle che composcono... Esatto, compolgono il famoso old school. Old school, sì. Cioè 1993-1994. Che vanno da Alpha, essenzialmente, che poi Beta e Unlimited sono delle ristampe di Alpha, a parte la Beta che ha le migliorie e tutte le cose. E poi abbiamo Legends, Arabian Nights e Antiquities e The Dark, che sono i set che vanno a completare il tutto. Questa è una delle carte bannate recentemente da Magic, Invoke Prejudice. Prima abbiamo visto passare la Jihad in Arabian Nights, carta meravigliosa. Questa è Devis, quello che abbiamo visto prima nella cartina test. Esatto. In realtà poi è uscita, vedete, col costo 3 e un nero. Ma il signore era nato in quegli anni? Sì, era già nato, ma non penso che già... Il signore. Il set è enorme, veramente. Sì, queste sono tante, tante. Poi c'è delle carte bellissime. Sì, il presidente... La carta bannata da Magic. E i set all school hanno tutto il fascino del Magic, dei primi anni. Esatto. Guardate, le prime multicolor, come erano fatte. Queste in assoluto erano le prime. Sì. Alcune firme hanno proprio la data anche. Eh sì, minchia. Questa è stata firmata nel 94. Sì, dove è possibile cerco di prendere le prime versioni, però è difficilissimo averle tutte così. Quindi va benissimo averle anche solo firmate. Poi si può sempre migliorare. Vabbè, magari una volta ti capita un'altra da fare il cambio. Sì, e faccio il... Esatto. Sì, sì, sì. Carta leggendaria, altra carta leggendaria. E qui? Qua iniziamo con le alterazioni. Ok. Quindi è il primo passo nell'abisso. Esatto, esatto. Perché qui, ragazzi, vedrete delle cose incredibili. Stiamo aprendo il vaso... Se finora era il paese dei balocchi il paradiso, ora stiamo aprendo il vaso di Pandora. Allora, queste sono le terre base Guru, firmate da Teres Ninze. Che poi l'isola non si vede tanto, però io gliel'avevo chiesta solo firmata e mi ha fatto uno sketch con il mostro di Loch Ness. Ah sì, eccolo qui. Questo qua è un regalo di un caro amico, Nicolò, che mi ha fatto fare un'isola... Brazzo, sì. Un'isola a forma di pizza con sulla palmetta e... E il mox. E il mox, sì. Però pizza e palmetta sono praticamente i miei simboli, esatto. Eccoci. Qui a breve, ragazzi, entreremo in un posto terribile e senza uscita. Una roba incredibile. Questa è una summer? Sì. Questa è una full art, fighissima. Bellissima quella. Questa qua è stata fatta da un artista non ufficiale, però abbastanza bella. Io gli ho chiesto i bordi sfumati con la bandiera italiana. E qui... Io, bimbi... No, questa cosa non ha senso. Queste sono fatte a pennello. Da Ron Spencer. Ron Spencer, queste lì in mezzo e queste qua, Orlandelli. Che è bravissimo anche lui. Bravissimo anche lui. Ragazzi, queste sono fatte a pennelli. Voi vi rendete conto? Queste sono state commissionate? Queste... Sì, sì. Ok, sì, sono state commissionate. Vedete che è composta? Cioè, è un'immagine unica. Unica, sì. Sborro, veramente, in una maniera meravigliosa. Guarda là. Sì, alcune hanno un livello di dettaglio pauroso. Incredibile. Incredibile. Bimbi, ste robe, c'è solo Willet, le vedete. Ah, questa doppio firmata alterata. Sì, marito e moglie. Marito e moglie, sì. Praticamente queste qua le ho date alla Gencon e gli ho chiesto di fare un'alterazione cina. Glielo ho chiesto io con le mongolfiere perché qua ci vedono. Praticamente le ha prese, non mi ricordo se le ha messe nel taschino o le ha buttate in uno scatolone insieme ad altre cose. Ho detto, mamma mia, chissà come me le ridarà. Per fortuna non ha fatto nessun danno. Meno male. E me le ha portate il giorno dopo così. Questa altra carta bellissima, doppio firmata. No, questa... Sì, quella praticamente è fatta solo da lei. Ok. Però visto che all'evento c'erano tutte e due, vabbè, non so se ci hanno lavorato tutte e due. Io gli ho chiesto un'alterazione fatta da entrambe e poi firmata la carta da entrambe. Ok. Questa che cazzo è? Quella è una championship card come quella di prima. Come bianca. Esatto. E gliel'ho fatta... Gli ho fatto riprodurre praticamente il bazar. Il bazar, sì. Che è questa carta, vedete? Alterata a pennelli. Sì, vedendola di fianco alle altre sembra anche quasi... Sembra un colore a unami sprint su un bordo. Poi vabbè, qua ce n'è una girata per paura che potesse venire copiata. Ah, che te lo copio. Ok. Vedi, è giusto l'idea. Poi sono male... A parte che mettono lo Yuzam ovunque. Però poi giustamente sono anche gelosi delle idee, no? Perché poi facendoli Yuzam martedino ovunque, anche col bubo del culo, quando uno trova un'idea particolare diventa geloso. Esatto. Perché il bello è l'unicità. È l'unicità, certo. Poi, beh, tanto sto facendo vedere quasi tutto, quindi... Mamma mia. Io anche lui ce n'ho 4-5. Eh, lui è bravissimo. Quella Vespa lì sembra... Sì, sì, c'è. Wackwicks. Sembra qui sopra, Brian Wackwicks. Lo portammo a Empoli qualche anno fa. Sì. Bravissimo, bravissimo. Questi sono dipinti a pennelli sulle carte, ragazzi. Che Daniel Geron se ne è data da affatto. Sì, adesso purtroppo non ne fa più, ma comunque i tempi di consegna sono lunghissimi. Sono diventati lunghi. Sì. Tende a non accettare più commissioni. Ok. Quella con paperone è bellissima. È meravigliosa. Bello, scratta. Sì. Il ragazzo ha 190 anni. No, è che piano piano un pezzetto alla volta se l'è fatta. Tanto tempo, tanta dedizione. Anche tante carte comprate in tempi non sospetti. Perché non è che te stai imparando tutto negli ultimi anni che i prezzi hanno forse un fall. Sì, sì, sì. L'ho iniziato nel 2003, ragazzi. Nel 2003, ma anche fino a 5-6 anni fa i prezzi di questa roba erano totalmente diversi. Sì, anche solo il Black Lotus l'ho comprato a un decimo di quello che vuole adesso. Esatto. Quindi vi rendete conto che ora sembrano, oh mio Dio, soldi e cose. No, cioè. È tanto tempo, tanta dedizione, tanta... Poi essendo un collezionista ho tenuto sempre tutto. Certo. Adesso, ovviamente, o comunque nel corso degli anni, qualcosa ho dato. Eh beh, certo. Ci mancherebbe, perché comunque per fare l'upgrade, quando ricevi una carta più bella di quella che avevi prima, l'altra la puoi dare, la scambi, la vendi. Questa qua è frutto della scrematura di anni e anni. Di anni e anni di collezionismo. Ed alcune arrivano con il certificato. Sì, sì, sì. A volte è grande, quindi non ci sta nell'album. Questo qua era formato carta, allora l'ho messo dentro. Cioè, praticamente ti fanno il certificato che è l'autenticità. Sì, non sempre, ma a volte. A volte te lo fanno. Le fetch, che chi gioca conosce, queste ha troppo la fatta a cuore. Esatto. Meravigliose. Quelle sono bellissime. Anche queste sono bellissime. E queste sono fatte da un'artista spagnola bravissima. Non dell'artista ufficiale. Però hanno un livello di dettaglio incredibile. Mamma mia, che bellezza. Questa roba non ha senso. Semplice. Sì, lui è bravissimo. Esatto. I draghi, soprattutto, li fa benissimo anche solo con due colori. Questa? Che cazzo. Anche lui non è originale, però è bellissimo. Meraviglioso. Poi Dani è bravissimo. Dani Rizio. Queste sono fatte a pennelli, ragazzi, dall'artista della carta. Ma lui è sui? Sì, sì. E lui è proprio imbattibile. Ce n'hai altre sue? Sì, dopo ve le faccio vedere. Allora ragazzi, lui è Wayne England. Anche lui purtroppo deceduto. Sì, purtroppo. Io vi prego di rendervi conto di che cos'è questa carta. Del dettaglio. Sembra stampata, ragazzi. Sì, sì. Lui faceva dei lavori incredibili. Gli altri sono bravi, ma lui è insuperabile. Era inarrivabile. Sì, sì. Secondo me è inarrivabile. Secondo me lui e Spencer sono i migliori in assoluto. Sì, sì. E c'è tanta gente mostruosa, però... Dopo vi fa vedere anche altre robe, ragazzi. Cioè, qui non ha senso da quanto è bravo. Bellissimo. Sì, quello fa il puzzle. Ah, questo è sempre un sketch sulla versione nuova di C.A.I. Esatto, della promo. Con la doppia firma di Phil e Kaya. Sì. Meraviglioso. Io, Andre, sono senza parole dalla bellezza di questa lezione. Mi fa piacere che vi piaccia. Questo è il set FBB. Ok. Firmato. Tutto firmato. Tutto firmato, tranne una carta che probabilmente... Eh, probabilmente non penso che neanche esista. Ah, addirittura. Questa qua è perché devo mettere la targhettina. Esatto. E che è appunto... Questa è la prima edizione uscita stampata in italiano, ragazzi. Forain Black Border. Ed è uscita stampata in italiano, in francese e in tedesco. Nello specifico credo questa sia tutta italiana. Tutta, tutta, sì. Tutta italiana, tutta firmata. Sì. Però ovviamente penso che per assurdo sia più difficile di altre collezioni. Molto difficile. Perché essendo stampata in italiano e uscita soltanto in Italia. Esatto. Era difficile che degli artisti molto spesso in America avessero le carte da firmare. Sì, e quella che mi manca appunto è una delle più rare che c'è nel set Antiquities. E la versione italiana non so neanche se l'abbia mai firmata. Ok. Non l'ho neanche mai vista da nessun collezionista. Ed è l'unica che mi manca per finire. Vabbè, diciamo che è completa, fino a prova contraria. Esatto. A parte quella, il resto è tutto firmato. Che capolavoro. Ma è anche che pensa a trovare quest'atta. Come cazzo è fatto a trovare il patto delle treme firmato da Uber? Allora, anche qua c'è una storia da raccontare. Io quando era vivo gliele avevo mandate tutte. Ok. Nel mentre purtroppo è mancato e quindi non mi sono mai tornate. Ok. Insieme alle beta le ha comprate Filippo, che aveva comprato un set completo alfa, un set completo beta e un set completo FBB di queste qua, sempre di Uber. Io gli ho comprato le beta e le FBB. Nelle FBB ne mancava una, quella verde, la Regeneration. L'ho trovata dopo un mese su eBay e mi son fiondato appena l'ho vista perché poi non l'ho più vista per anni. Mai più, mai più. E quindi niente, l'ho comprata. Per fortuna è dalla stessa firma. Quindi probabilmente faceva parte dello stesso set. Che meraviglio. O se te devi andare. No, 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 ogni tanto mi... No, no, ma sei matto sto qua tutta sera. Ogni tanto vibra e guardo solo chi è. Ecco, vedete? Com'è la terra fortuna originale. Esatto. La testa del tizio è dietro il ramo. Esatto. I boppini, sì, sì. Birds of Parade, dai, sfieri. Madonna, che bellezza anche questa collezione. Ecco, la carta che manca è quella la girata. E lei? Sì. Se qualcuno dovesse averla, mi serve. Se avete la carta firmata da Kerstin Skarman, vi ricordo che sappiamo com'è fatta la firma perché in altre versioni la conosciamo. Sì, sì. Non ci inculate. Meraviglioso set. Ricordiamo qua, ovviamente, non ci sono le Power Nine. Certo, certo. Questo set di ristampa, il primo set di ristampa, madonna, guarda che bellezza le due. Hanno un fascino l'FBB incredibile. Sì, 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 no, è vero. Sì, 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 no, è vero. Io questo set sto cercando di farlo solo firmato. Queste qua mi sono capitate alterate, vabbè. Vabbè, nel dubbio, non si metta lì. Sì, sì, poi sono schiacciate. Sì, infatti. Questo è proprio alterato, però. Sì, quella è bellissima. Mi piace un sacco. Oh! Lo sai che è completo, non l'avevo mai visto? Non è completo, infatti. Ah! Ecco! Era dietro, qui, c'aveva il palo, non lo vedevo. Esatto, esatto. Non lo vedevo. No, completo è rarissimo. Anche perché questo qua era un concorso. Ok. Praticamente chi lo completava lo mandava a questi qua, che mi sa, l'ultra pro, forse. Sì. E gli mandavano un buono. Un buono di 250 dollari. E non so se ce n'è pochi sul mercato perché in tanti l'hanno finito e mandato, o perché proprio essendo una lotteria, quindi con un budget limitato, hanno detto, buone, facciamo 5, 10 e oltre quelli basta, perché se no ci arrivano 100 completi e andiamo in bancarotta. Ed è davvero, davvero raro. Eh sì. Infatti io non l'avevo mai visto, completo. C'avevo il banco, il costo dell'edetto. Ah, tra l'altro, noto che tre pezzi sono firmati. Tre pezzi sono firmati, sì. Sì, sì, sì. Meraviglioso. Di questa c'è anche una carta jumbo, enorme. Orca, quella non l'ho portata. Ah, qua c'è qualche chicca carina. Queste sono chicche spazze. Guarda che roba. Qui andiamo, torniamo sull'origine, sulle oddities. Esatto, esatto. Qua c'è sempre un nastro adesivo. Esatto. Che era sul foglio. E qua c'è sballato il colore del testo. Questo è un grande classico. Sì, quelle sono tutte così. Però quelle italiane sono uscite con quel bollino lì. Sì. Questa invece è altre, questa è una carta di credito? Quella lì è tipo una prepagata che hanno dato a un judge come pagamento, mi so. Ok. Forse era caricata con il tot che dovevano dargli e lui ha potuto prelevarli. Infatti dietro è firmata e c'è anche il bollino della visa, la colomba. Che figata. Queste qua sono tessere telefoniche, quelle che puoi grattare. Che capolavoro. Sì, sì. Quelle che puoi grattare, c'è il codicino e vai a credito a scalare. Questo è lui? Sì, sì. Rifaccio. Vediamo se si vede. Vai, vai, vai. Allora, questo Sapphire Media, allora ragazzi, dovete sapere che è una delle grandi lotterie di Magic. Esatto. Intanto chi ce l'ha va a controllare se è lui. È bravo, esatto. Ora, non so se riuscite a vederlo. Eh sì, sì, si vede abbastanza bene. Chi è lui? Lo vedete? Riuscite a riconoscerlo? E ti? No, non è ti Andy. Charlie Brown. Charlie Brown. L'amichetta di Snoopy. Praticamente ne sono uscite un tot. Sì, non è rarissimo. Non è rarissimo, non è rarissimo. Però che hanno? Non si sa perché o si sa, boh, io non lo so. Probabilmente la stampante aveva stampato prima questi e non è stata ripulita bene. Esatto. Probabilmente, poi non so bene. Però sì, in trasparenza si vede quella... Si vede Charlie Brown, eccolo qui. È difficile. Che tra l'altro l'artista si chiama Brown. Eccolo qui. Questa è la faccia. Sì. Qui vediamo delle altre robe assurde. Sì, quelle lì praticamente sono più piccole delle carte normali perché dovevano essere distrutte, mandate al macero e invece le hanno salvate. Sì, e sono uscite senza inchiostro. La cosa bella del colosso è che ha una foresta nel testo. Eh sì, vedete? Chissà che cazzo ne ha preso. Non lo so. Perché c'è la foglieratura. Sì. Qui c'è una pianura. Sì, dovrebbero esserci tutte e cinque i simboli. Io ne ho solo due. Tra l'altro il colosso quando è iniziato era... Eh, chiaro. Era la carta ai tempi. Qui vediamo altre odysi che meravigliano. Sì, qua un po' chiare, un po' scure, sbiadite, tra tanto nero. Questa qua, nella Vision, ha una versione con tanto colore. Molto scura. Sì, sì, sì. E la chiamano Dark Vision. Esatto. Ah, che meraviglia. Cioè, queste ragazzi sono uscite così di stampa. Sì. Che hanno più inchiostro rispetto a un altro. Qua tutto blu. Tutto blu. Esatto. Impazzita la stampante. Mamma mia, che meraviglia, Andrea. Grazie. Ah, queste qua sono... In Ice Age, tante hanno inchiostro blu sparso per la carta. Sì, sì. Come esce tutto macchiato. Questa è un po' sbiadita, tipo. Sì. Quella è la stessa carta con varie sfumature di... Guarda che figata. Di colori usciti strani. Si possono ancora trovare i nuovi set? Assolutamente sì. Molto spesso succede. Vedete, questa è M19. Vedete? Succede. Succede molto spesso. Sì, sì. La cosa bella è che sono cose successe casualmente e entrate in commercio per sbaglio. Per sbaglio. Per sbaglio. Per sbaglio. Perché in teoria non dovrebbero superare il controllo qualità. Esatto. E dovrebbero essere distrutte. Questa è un albino, rarissima. Ok. Non c'è colore in questa. Infatti dovrebbe essere una carta azzurra, ma è in bianco e nero. Completamente in bianco e nero. Che meraviglia. E quella di fianco è una silver bino, perché ha gli angoli... Cioè, ha i bordi argenta. Argenta. Silver albino. Silver bino. Ah, questo ha un cerchio. Esatto. A caso. Questa di fianco è un po' foil e un po' non foil. Vero? Assurdo. Vedete? Che c'è la folera tira a tratti. Qui vedi loghi di cose a caso, tutti i loghi spostati. Ah, qua è un po' come il Charlie Brown, però con il retro di Magic. È rimasto in trasparenza il retro. Il print del retro. Vedete? E anche questo c'è di cinque colori. Questa? Ah, sì. Quella lì praticamente è una crimp, però di quei pacchetti, quelli che si appendono allo scaffale. Che cazzo di meraviglia. Quella è bellissima. Le ho viste solo uscite da questo pacchetto. Questa è meravigliosa. Sì, sì, sì. Quella molto rara. E questa è devastante. Una beta crimp dove un pezzo di carta è rimasto fuori dalla bustina. Porca puttana. Cioè praticamente queste carte rimanevano a metà della chiusura del pacchetto. E quindi quando venivano pressate ci rimaneva il print della pressione, insomma. E qua poi tra l'altro l'ha anche tagliata via. Eh sì, è cattata via. Sì. Fuori dal cazzo perché non ci doveva essere niente lì. Perché i pacchetti poi per separarli li tagliano. Li tagliano. E questa era rimasta sotto probabilmente. Quindi una parte l'hanno tagliata via. La macchina l'ha tagliata via. Quella crimpata in verticale. E questa di obliquo. Queste collezioni mi fate venire un po' la pelle d'oca assurdo. E grazie per mostrareci tutta questa roba. Sì, grazie a Andre. Grazie a voi che state... Io ve l'avevo detto ragazzi che oggi avremmo navigato nel mondo delle robe incredibili e inarrivabili. Cioè veramente roba unica. Unica, unica, unica. Io sono veramente onorato di potervi mostrare queste carte. Ed è la prima volta tra l'altro che le vedo anch'io. Sì, è vero. E sono veramente un bimbo all'asilo. Non è ancora finita qua. Deve arrivare un album che non ha senso. Io lo so. Vuoi far vedere questo nel frattempo? Io non vedo l'ora di mostrarlo a Dario. Questa cosa. Un biglietto di Disneyland firmato da Walt Disney. No, mi sono fidato a comprarlo perché c'era il certificato. C'è il certificato. Sì, sì. Sennò... Non ha senso. Andiamo avanti con le nostre magie. Iniziamo dal bianco. Dal white. Ah, perché sono dividiti per colore qui. Sì, qua c'è il bianco, blu e nero. Perché qui sono... È full alterazioni. Sì, sì. Qui ci sbirzzarriamo rando nella follia delle alterazioni. Tenetevi pronti ragazzi perché vedrete delle cose incredibili. La maggior parte sono state fatte a pennelli, eh. Voi vi rendete conto? Della passione che c'è dietro questa collezione. Voi vi rendete conto di cosa vuol dire? Che poi io penso tante... Queste alterate io credo che tu la maggior parte le sia fatte fare. Sì, sì, le ho commissionate. Quando, per esempio come Spencer, visto che i tempi d'attesa sono infiniti ed è una lotteria proprio riuscire a commissionargli qualcosa, quando le trovo fatte le prendo. Le prendo. Però solo alcuni artisti. Esatto. Quando invece l'artista è facilmente contattabile, disponibile e tutto, cerco di trovare una mia idea. Eccoci. E gliele faccio fare. Eccoci. A England, per fortuna, vabbè questa no perché l'ho presa già fatta, per fortuna sono riuscito a fargli fare qualcosa su commissione. Questa è Wayne England? Sì. Vi prego. I botti che ci sono sul casco e tutto sembrano... È incredibile. È vero, è vero. Guarda che idea bellissima è questa. Sì, questa fondamentalmente è tutto nero. È tutto nero ma dà una profondità incredibile. Brava, sì. Poi ti hiti. Lì ha fatto lui. Mi aveva mandato delle carte da firmare. Lui, perché ci aveva messo tanto, per farsi scusare, che poi comunque non c'era nessun problema, perché immagino che siano impegnati e tutto, me le ha mandate alterate, che ho scritto scusami per il... Per il ritardo. Perché ci ho messo tanto tempo, questo qua è un omaggio che ho voluto farti, e me le ha mandate alterate a suo piacimento. Che figata. Sì. Qui partiamo col blu. Sì. Guarda che bellezza. Il time walk in ogni salsa. Sì, esatto. Mamma mia. Sta roba è insensata. Queste due qua, guardale tu. Ok, sono quelle... Sì, sì. Sanno rivelare l'idea. Meravigliosa. Questa si era già vista, ma la realizzazione è top. Top, sì, veramente bella. E questa è proprio una mia idea che... Bellissima. Sì. Eh, voi non le vedete, stronzi. Questo è il segreto. Che abbiamo Maddox. Quanto per lui tutto astrato, tutto distorto. Questa qua è uno degli errori delle revised. Sì. Praticamente... Serendib che dovrebbe essere blu, invece è verde. Esatto. e con l'immagine sbagliata, perché il Serendib è questo qua. E quindi qua mi ha fatto il Serendib sulla carta sbagliata e qua sul Serendib mi ha fatto... Ha fatto... Hai fatto lo scambio. Sì, sì, sì. Bella, bella idea. Sì, quello... Pete Venters, che tra l'altro... Vi spiego questa roba. Vedete questo e probabilmente non lo vedete un'alterazione su una carta perché lui ha un problema agli occhi, una malattia, e quindi lavora soltanto su sfondo bianco e in bianco e in nero. Quindi, tra l'altro, non ho nemmeno mai visto un lavoro così complesso. È bravissimo. Di solito vedo roba... Lui è bravissimo. ...più... Più a tratti, corti. A tratti, sì, dopo ce ne ha altri. Così sembra più dipinto, diciamo. Sì, ma lui proprio con le tonalità del grigio così fa dei lavori pazzeschi. Sì, sì, sì. Mamma mia. Questi personaggi più famosi delle carte di Ken Mayer in versione sushi che si mangiano la remora. Che bellezza. Queste di Rush, bellissime. Questa l'ha fatta Rush? Sì, sì, sì. Se l'ha drogato. Queste sono bellissime. Quella Jack Sparrow somiglia tanto a mio papà. È vero, è vero. Mi assomiglia molto. Quello là. Che bellezza. Sì, alterazioni fatte così bene di Rush... Sono veramente rare. Di solito faceva dei troia... Porca la mamma. Allora. Ecco, queste qua sono quelle che ti dicevo della ragazza spagnola che fa delle cose devastanti. Fa delle robe incredibili. Sono bellissime. Quindi questo che vedete ora non è originale. Esatto. Di Therese Nintsen. Di qua già potete entra a vedere qualcosa. Questa è fatta da una ragazza spagnola. Ora tenetevi forte ragazzi perché questa collezione di Forza of Will non ha senso. Questa è io... Eh sì. Queste sono fatte dall'artista della carta invece. Da Therese Nintsen. Questa l'ha fatto il layout? Quella sì, sì, sì. Che capolavoro. Che ha richiamato il loto. Comunque lei ragazzi è bravissima. Se noti questa praticamente lì c'è la carta che in teoria dovrebbe essere strappata e il cavallo che salta fuori. Quello richiama il retro della carta. Guardate il grado di dettaglio. Raccontaci dai. No niente, questa qua l'ho commissionata io e secondo me è l'alterazione più bella non solo di Forza of Will ma che io ho in questa collezione. Addirittura? Sì, sì. Questa è la mia alterazione preferita. Minchia. Sì, sì. Questa è... Ed è una delle ultimissime Forza of Will che ha preso su commissione. Ok. Poi ha smesso di farle su commissione ne ha fatta solo qualcuna come premio a eventi in cui è andata e poi adesso che è stata bannata dagli eventi per motivi... non ne ha più fatta. Questo qua è lo sketch preliminare che mi ha mandato quando... prima di farla con il biglietto di ringraziamento e anche solo quel lucido lì è bellissimo. Sai che mi piace più questo? È devastante. L'ha cambiato leggermente se non ti. Sì, è un pochino... Ed è bellissimo. Ok, andiamo avanti nel mondo folle delle alterazioni. Guardate se... la caduta delle merce. Sì. Qui le merce a scroll fatte dalla Leeds, Stanford. La pizza è mancabile. Ci deve essere. Il parente invece. Jeff Lubestain. Una delle persone più... meravigliose. Sì, è un grande. È vero. È un piacere star con lui. Esatto. È vero, è vero. Simpaticissimo. Stranger Things abbiamo. Miss Calculation fatta col Double Ganger. Guardate che meraviglia. Il Tinker col colosso e un colpo di classe. Questi qua non sono originali. Sì, sì, sì. Chiaro, è chiaro. Però sì, bellissimo. Sì. RK posta anche lui. Meraviglioso artista. Guarda che roba. Vediamo se lo riconosci questo. Questo sei re? Sì. Sì, sì, sì. Si sono riconosciuto. È un vino 6. Questo è Daniel Rizio invece. Sì, sì, esatto. L'artista italiano ovviamente lo usa perché non può mancare mai. Che bellezza. Questa me l'ha regalata Philly. È l'artist proof di un ponder con il Chaos Orb vestito da tartaruga ninja che vomita. L'appe sulla pizza. È quello bellissimo. Questo è sempre Danny. Sì, sì, sì. Davy Jones è uno dei miei personaggi preferiti. È bello. Che meraviglia. Ragazzi, io vi invito poi a riguardarvi il VOD con calma di tutto quello che sta passando perché ripeto sono... Mamma mia. Ecco, quelle... Mamma mia. Questa non è sua ma le altre sì. Mamma mia. Quelle due lì sono proprio senza senso. No, ragazzi. Vi prego. Non è stampata. È fatta a pennelli. È fatta a pennelli. Cioè, sta prendendo come faccia. la telecamera la inquadra come faccia. È questo qua glielo ho chiesto proprio io. Meraviglioso. Ma poi guarda anche su ste cazzate. Sì, sì. Quella fa parte di una delle serie che mi ha fatto per... Questo è dipinto, ragazzi. Ah, te l'ha fatta così? Sì, sì. Le prime proprio quando gli chiedevo le firme me le rimandava con degli schiacini che poi non sono schiacini sennò delle alterazioni. Che meraviglia. Quindi andiamo sul nero. Quindi immagino già cosa ci sarà. Esatto. Qui ci sono alcuni dei ragazzi dei santi graal delle alterazioni mondiali. Ok? Dimmi, dimmi. Questa è una delle poche alterazioni di Ventures. Di Ventures sulla carta. Io l'ho chiesto tra l'altro e me l'ha confermata che è sua perché puoi dire vabbè è facile farlo. Certo, certo. Però me l'ha confermata. Capace l'ha fatta X anni fa. Sì, sì. 2004. Esatto. GP Vienna. A Vienna ci sono stato. Anche questa se vuoi puoi guardarla tu. Certo. Quella lì. Ah, posso guardarla solo io? Sì. Quella è incredibile. Quella è incredibile. Lasciamo il velo di mistero. Però la tua faccia dice molto. Qui tra l'altro iniziamo a vedere Ron Spencer all'azione. Sì. Su un terror meraviglioso. Che è Mayer Junior giusto? Sì. Cazzo, sto stile è super super sparato. Esatto. Bellissimo. Anche quella è stata una mia idea gli ho detto voglio Giudzam in stile Mona Lisa. Dio Cristo. Che cazzo è questo? Quello lì è Chiron un artista che praticamente fa le artist proof con le mini pen dei mini pennarellini finissimi e con dei trattini fa fuori delle Porca puttana. Sì, sì. Ha un livello di dettaglio quello lì impressionante. Lord of the Pizza Ah, vedi? Proprio cambiato il nome vedete? Collector questa qua è una collector però e adesso glielo ho fatta fare adesso a Dallas questo qua. Ah, ok. E qui ragazzi tenetevi forte che non so chi è dell'ambiente penso pochi realisticamente ma se c'è qualcuno che sa quello che vi sto facendo vedere probabilmente sverrà. Allora le Yagamo's Will ti prego racconta la storia di perché è così importante cosa significano queste carte? Beh, allora avere un'alterazione fatta da lui oltre ad essere una lotteria come ho detto prima ci vuole anche tanto, tanto, tanto tanti anni per averle. Io per queste due quali? Sono questa e questa che sono quelle che ho commissionato io ho aspettato due anni ognuna ognuna due anni per averla e poi è l'artista uno dei più iconici e più bravi dell'ambiente. Allora voi immaginate che questa è tutta la solita carta sotto ok che è questa possiamo tirare fuori pure quella lì che è l'artist ah questa è l'artist che meraviglia questa è la carta che c'è di base che peraltro è anche alterata un pochino lì sotto lui su quella base che avete appena visto ha fatto queste cose io una per una ragazzi vi faccio vedere non me ne frega nulla perché questa è una delle più famose il cavaliere senza testa questa è una delle mie preferite perché il vampiro di Stanger mi piace un sacco e con lupo mannare e i lupi mannari lui li fa davvero benissimo veramente si di questa ho anche lo sketch tipo quello della forza che abbiamo visto ok perché sono quelle che ho commissionato io si c'è ci fatti una sega va better swill si possono usare se il judge non rompe coglioni mettiamola così tendenzialmente no per assurdo queste extreme artwork no ma già se stai giocando jagamot swill sei in vintage quindi probabilmente sarà tutto più tranquillo la situazione Yoda questa è penso la più estrema che c'è proprio full art e quest'ultima qua la particolarità è che è fatta da sia Nielsen che Spencer perché come dicevamo loro sono fratelli fratello e sorella si fratello e sorella esatto e quindi c'è un'alterazione fatta da entrambi quella che avete visto delle force of will di prima con lo sketch e quant'altro è Ross Spencer che ha fatto tutte queste si ragazzi io credo sia l'uomo che ha più jagamot swill al mondo non lo so tra l'altro ne ho una insieme a Filippo e qua non c'è è praticamente il lumino della jagmot che innaffia il black lotus è divertentissimo anche quello bellissimo non l'ho potuto mettere nell'album eh no questo è giusto così Wrath of God e Damnation dove entrambi l'artista è sempre lui ha fatto un artwork combinato qui abbiamo Archie Post meraviglioso bravissimo anche lui guardate che roba qui torniamo madonna questo è sempre Ron Spencer si qui siamo da Wayne England orca puttana ma stai scherzando e qua praticamente ho fatto fare tanti demonietti perché il reanimator dell'epoca era il mio preferito e si giocava il demonietto putrido certo per scartare le arti di mano poi ovviamente in teoria sono io bruttissimo vabbè sembro uno uno schizzato si o un rocchettaro e qui vabbè c'è Jeff meraviglioso meraviglioso quello bellissimo estensioni e poi i tramutanti mi piacciono molto anche lui ha uno stile incredibile incredibile c'è una carta che merita di essere raccontata eccola qua questa qua chi è? forse te l'ho già raccontata io che anni fa me l'hai raccontata ho preso questa carta qua in condizioni near mint perfette comunque perché dovevo mandarla a far alterare l'artista mi chiede vuoi l'effetto dell'acido di alien sulla carta e io gli ho detto ma perché no tipo Fraser che mi aveva fatto i graffi sul mox mi arriva questa questa carta l'artista ha bruciato la carta però mi piace tantissimo mi piace tantissimo perché questa è una follia totale e questa è un'alterazione estrema proprio mamma ha fatto bene a saperlo la prendevo anche un po' più rovinata sì però questo è Ken Mayer meravigliosa anche lui sì c'è stato il periodo che praticamente appena mi veniva in mente un personaggio gli mandavo carte da fare un dark ritual esatto che bellezza questa non è questa non è originale però questa è molto rara perché già di lei è difficile la firma difficile trovare la firma eh sì la van camp è molto rara come firma l'ho fatto far sul mio gatto artworkata addirittura che meraviglia qui li siamo da Ross Spencer uno dei più grandi finanziatori di Ross Spencer della storia a quanto pare poi io vorrei finanziarlo anche un po' di più ma lui non si fa contattare non si fa contattare vabbè qui sono altre cabal therapy con la pizza giustamente che meraviglia e tra l'altro non le ho commissionate io queste le trovate già fatte sono arrivate prese subito che bellezza sì quella è bellissima Venome è anche lì uno dei miei preferiti infatti dopo ce n'è uno di Wayne England Dio Cristo ma stai scherzando bellissimo le varie Liliane grande classica questa anche è fatta molto bene quella lì ha pennelli pennarelli uniposca esatto questa è meravigliosa sì è Parrillo ah ecco bravissimo eccolo è lì un Venom di England meraviglioso fantastico meraviglioso guarda che roba the last one ragazzi dolci si in fondo canto del cigno ragazzi siete stati partecipi dello show off di una delle collezioni più veramente più importanti se non altro dal punto di vista di unicità al mondo grazie e questo è poco ma sicuro guarda che roba incredibile sì quella è fatta benissimo sì fatta da Dio belli questi questi tra l'altro con il suo marzo sì con il il marchio che usa nei quadri lei lavora soltanto a Oliva tra l'altro guarda che roba sempre win England sempre win England mamma mia e lì è il tratto poi di venters è questo troppo bravo ma non ha senso qui abbiamo pit venters in versione super sketch diciamo e qui invece una sempre venters in versione un po' più dettagliata e lavorata è bellissimo ecco ecco queste sono tra le mie preferite di England vi rendete conto che la mia telecamera sta prendendo il focus perché la riconosce come faccia sembra in 3d da qua è impressionante cioè non so che dire se boh questi minion a lui piaceva molto fare i minion si ni garbavano ma poi guarda i capelli matti guardate i dettagli sui capelli quello tra l'altro dovrebbe essere un judge perché ha la stellina della wizard un judge o qualcuno che lavora in wizard parrillo fiero italiano quindi andiamo al verde invece orsi con i salmoni miei fratelli guarda che madonna che bellezza sono esterefatto anche i joker lì è bellissimo tra l'altro quello è un artist proof dietro è bianco anche queste sono bellissime questa è una delle mie carte preferite preferite in assoluto della collezione di tutte uno scogliato se devo fare una classifica è nelle prime 10 è troppo bello voi avete visto cosa ha ok questo vedetevi quanto è malata la mente umana è contorta bellissimo però io ho visto finora delle robe incredibili un posticino per quello nella top 10 ci deve essere ci deve essere per forza ci sta ci sta niente contestabile anche questa è una delle top 10 ok questo è un grande classico però bellissima queste sono meravigliose sì queste sono un son dell'artista sì che spettacolo e sono anche firmati è vero anche quella questi si questi annotatori sono tutti suoi che bellezza queste due non sono dell'artista però questa è bellissima e anche quelle due là le homling mine questa qua doveva essere l'effettivo disegno della city in a battle poi però gli hanno detto che era troppo minimal e lui l'ha rifatta l'ha dovuta rifare pensate sì quelle due lì non sono dell'artista però sono bellissime sono fighe dante virgilio guardate il robo ah questo qua praticamente è l'autografo di uno scrittore che ha dato il nome alla carta se tu leggi al contrario ne venirra al disc viene fuori Larry Neven ma io questa non avevo idea che fosse per quello e quindi quello lì è Larry Neven uno scrittore americano amico non mi ricordo se è di Tedin o di Garfield per rendergli omaggio hanno fatto questa carta qua dedicata a lui col suo nome che cazzo di figata e qui iniziamo il set i set strani con le pin nove le cose tra l'altro vi dico una curiosità successa veramente poco tempo fa cioè quando è arrivato Andre Rush così per gradire con il bigliettino da visita anche di Rush eccolo fiero apre l'album e mi fa vedere queste faccio oh Guns ve le ce l'ho anch'io sono l'edizione limitata della stampa di Wayne England no no ma queste sono le originali cioè praticamente io ho la fotocopia che fece l'edizione limitata Wayne England basata sulle sue carte in realtà ne ha fatti tre o quattro di set originali quindi non so se sono proprio queste vabbè sono loro da qualche parte sono loro ma proprio cacato in faccia detto proprio papà e papà non volevo aperto il culo e ma cacato in faccia qui abbiamo Dan Fraser queste non sono sue però queste si queste tra l'altro difficilissime veramente tanto difficili da trovare non bellissime bruttine come Arthur però sono molto rare da trovare scritte Dean sempre le sue cose anche questo è uno dei miei set preferiti questa è meravigliosa sono fatte benissimo questa è un'idea meravigliosa è una realizzazione fatta da Dio ma è l'artista che l'ha fatta l'artista sì sì le ho prese già fatte non le ho commissionate io però sono meravigliose vedete allo sfondo di City of Traitors Mishra Workshop Tolarias Tolaria Academy e Hans and Tom meravigliosa anche l'idea è proprio bellissima davvero bello sì Greenstone in salse strane anche quel mazzo mi piace molto pur non avendo mai giocato né arianimator né questo né però mi piace molto infatti anche bellissima quella là sopra c'è una carta che ho girato perché non so se si può far vedere guarda la prima te ma sì che cazzo me ne frega è arte allora non l'ho commissionata io non pensate che sia il genere di cose che piaccia a me è un cactus questo no? eh sì ok esatto probabilmente chi gliel'ha commissionata gli ha detto boh fai quel il cazzo che ti pare è bravo e lui ha fatto proprio quello è un cactus che ricorda stranamente delle sembianze faliche è un cactus qui abbiamo Ross Spencer assolutamente questa è artworkata e doppio firmata minchia che bellezza meravigliosa e lì Orlandelli che è uno dei migliori è troppo bravo mamma mia guardate questo set che roba anche lui era venuto al war e questa forse l'ho presa nel suo album che l'aveva portata già fatta Chris Muller anche lui fa una persona fantastica delle varie cappe della profezione di sensei questa è bellissima questa è veramente bella poi fa il giapponese meravigliosa poi questi artwork anche minimalisti si bravo con diverse scale di grigi meravigliosa e vedi qua sempre il servo del pittore da andare insieme alla greenstone la sua firma e l'artwork è difficilissimo da trovare di quell'artista lì ovviamente è super minimal però firma alterazione come scusa e questa è la firma lui che fa ste robe incredibili con bianco e nero nero argentato fa ste robe questa non credo sia originale però è di quella che ha fatto la spagnola esatto bravissima e quella è Ralph Forsley multicolor andammo a chiudere queste cose sono meravigliose si proprio perché meravigliose colleziono i back strani mi è venuto in mente di farli fare questa roba è una delle osse più belle che ho visto si sono molto belle regina la regina dei tramutanti mamma mia andrea io non ho non ho veramente parole guarda che roba quell'iron man lì sembra una foto sembra ritagliato da da un giornaletto e messo lì i vari sciamani i vari psichatog si questi qua sono molto semplici ma ci stanno ci stanno Darth Vader Garruk e abbiamo finito qui è finito purtroppo mi dispiace non avere altri dieci raccogliti io andre a parte che sono tipo tre ore e mezzo ragazzi vi dico già che avete avuto l'onore di poter assistere a questa puntata prima in diretta e poi la vedrete su youtube avete visto cose che non troverete da nessun'altra parte io andre ti ringrazio veramente infinitamente per essere venuto per esserti reso disponibile per esserci reso partecipe di una storia di una passione perché poi è questo è magic è quello che voglio dire che ho sempre voluto dire cioè rendetevi conto che non c'è soltanto i soldi che non c'è il gioco che magic non è solo quello magic è fatto di tante cose e questa roba nella dimostrazione guardate quanto è meraviglioso quest'uomo vi do appuntamento a domani mattina come al solito fate a modo un bacione datevene a fanculo va ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti